Allora, buongiorno a tutti, io sono Grazia Ficarico dell'associazione proponente questo lavoro di Dal Basso, l'associazione GMA Giovani Menti Attive. Vi do il benvenuto a questo primo appuntamento di questa settimana di Impresa Up Sharing Ideas. In realtà siamo già al terzo appuntamento per chi si fosse unito a noi solo oggi. Nelle precedenti puntate abbiamo avuto Marta Mainieri che ci ha introdotto in questo bel mondo della sharing economy e poi abbiamo avuto durante la seconda giornata Marta Rossato che ci ha aiutato a comprendere come le dinamiche di questo nuovo e rivoluzionario modo di fare economia possono intervenire all'interno di un settore particolare che è quello del turismo. Oggi entreremo, durante questi primi due incontri abbiamo già buttato velocemente giù qualche idea, ci siamo divisi in gruppi, sono state due lezioni molto operative, lo sarà anche quella di oggi e in particolare nel workshop pomeridiano entreremo proprio nel vivo, ma già da stamattina, di quella che è la progettazione partecipata grazie all'importante ospite che abbiamo qui oggi l'onore di avere che è Daniela Selloni. Daniela Selloni è dottore di ricerca in design dei servizi e innovazione sociale presso il Politecnico di Milano, lavora come service designer per imprese pubbliche e private e svolge anche attività di mentore in programmi di incubazione per start-up. Noi ringraziamo Daniela perché ha subito accolto il nostro invito a guidarci in questo percorso e forse anche perché è reduce da un'altra bella esperienza in Puglia che era quella della scuola di Bollenti Spiriti di cui ci parlava ieri sera. Noi speriamo da parte nostra di essere all'altezza e di poter fare in modo che possa conservare anche un bel ricordo di questa esperienza barese e modugnese, quindi buon laboratorio a tutti. Grazie. Beh, dopo questa introduzione almeno non mi devo più presentare, di solito inizio sempre presentandomi. Già dicevo appunto che la mia seconda esperienza in Puglia, sono stata recentemente a Taranto, alla scuola di Bollenti Spiriti a luglio, ed era stata un'esperienza afformativa per me, e quindi era stata molto positiva. E quindi ho accettato molto volentieri di venire qua perché secondo me la Puglia sta facendo molto bene. Quindi il programma delle politiche giovanili, quello che sta succedendo qua, il programma dei laboratori dal basso, io l'ho trovato un processo molto democratico di innovazione e formazione. Allora, la giornata è suddivisa così. Parliamo un po' stamattina di questo sconosciuto il design dei servizi, perché è la storia della mia vita spiegare cos'è il design dei servizi, mia madre non sa cos'è, faccio sempre fatica a raccontarlo, di solito evito sempre di dire cosa faccio, perché sennò si entra in una discussione lunghissima in cui devo spiegare cos'è, però oggi è la sede per spiegarlo, e quindi sono molto contenta. Dottorata di recente, una settimana fa, quindi magari avrò consumato qualche neurone, se mi vedete un pochino, che perdo qualche parola per strada, ditemelo. Inserirò qualche parola in inglese, questo ve lo dico, nel caso fermatemi, se non sapete cosa vuol dire, eccetera, eccetera, perché il design dei servizi è una disciplina che è nata nel mondo anglosassone. La tesi l'ho trovata, l'ho scritta in inglese, e il linguaggio del design dei servizi è principalmente in inglese. Però ce la caviamo anche in italiano e riusciamo a fare delle buone traduzioni. Allora, ho diviso l'intervento in quattro parti. Solo la prima parte è un pochino teorica, quindi la prima parte è l'introduzione a cos'è il design dei servizi, in particolare il design dei servizi collaborativi, e di cui il legame con la sharing economy. Io e Marta Magneri ci siamo incontrate perché eravamo complementari, nel senso che lei studiava proprio la teoria, i casi della sharing economy, io studiavo i servizi collaborativi, quindi il modello di servizio, cioè cosa facevano gli utenti dentro questi servizi, e in un certo senso ci siamo agganciate, proprio perché avevamo delle conoscenze complementari. Poi vi racconto una sperimentazione che ho fatto a Milano, che si chiama Cittadini Creativi, dove ho progettato sei servizi per un quartiere insieme a un gruppo di 30 cittadini. E qual è stato forse un campo di battaglia dove ho imparato di più, perché progettare con 30 persone di varia età per un quartiere è stato sicuramente un processo molto intenso, dal quale ho imparato moltissimo, ed è la sperimentazione che ho svolto per il mio dottorato. Poi un altro progetto di ricerca che si chiama Nutrire Milano, che è un insieme di servizi collaborativi alimentari, e quindi è un sistema di servizi, quindi è interessante per vedere l'integrazione di differenti servizi in una piattaforma. Non so se riusciremo, questo l'ho messo perché dipende sempre da come va la lezione. Faccio la lezione per punti flessibili, poi dipende dalle domande, dipende dalla lunghezza. Se arriviamo abbastanza veloci, posso parlarvi anche di questa esperienza dell'orto conviviale del Politecnico di Milano, non perché è interessante l'orto in sé, perché qua ne avete tantissimi, ma perché è interessante il processo collaborativo che ha portato alla creazione di questo orto. E questo per stamattina. In realtà io avrei lanciato anche le esercitazioni di questo pomeriggio, ma mi dicevano che forse questo pomeriggio arrivano altre persone ancora. Quindi forse le esercitazioni, tra virgolette esercitazioni, le lancio alle due del pomeriggio quando arrivano le altre persone, dove useremmo proprio degli strumenti di design dei servizi, molto semplici, molto semplificati, perché chiaramente non volevo proporvi un'applicazione tecnica, però sono degli strumenti che servono per strutturare meglio le vostre idee di servizio. E quindi si lavora proprio sul, possibilmente sul dettaglio, ma dipende da come riusciamo a lavorare. Sono tre esercitazioni, anche lì se riusciamo a farle tutte e tre sono contenta, se riusciamo a fare anche solo le prime due è un grande risultato, perché chiaramente sto parlando di una plattea che non è composta da designer, e qua che non è progettista di professione, alcuni sì, altri no, non lo so, però è una classe, insomma, composta da varie persone multidisciplinari, quindi è anche bello l'approccio. Va bene, allora, il design dei servizi. Vi spiego perché è importante parlare di servizi. Punto numero uno, perché la nostra è principalmente un'economia di servizi. C'è uno studio di Anita Wolfi dell'Ox, che dice che l'economia dei servizi rappresenta circa il 70% della produzione e dell'occupazione dell'economia Eox, e la produzione dei prodotti sta scivolando a meno del 20%. Questo dato ci fa pensare. Cioè, siamo una società che sta sviluppando sempre più servizi invece che prodotti. Ecco perché progettare servizi diventa importante. Cioè, diventa un'operazione di centrale importanza, perché noi usufruiamo di servizi tutti i giorni. Abbiamo a che fare con un servizio. E quindi l'usabilità di quel servizio è molto importante. Progettare un servizio significa essenzialmente renderlo, e quando ho scritto le parole chiave, efficace, efficiente, piacevole, sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che sociale, oltre che economico, chiaramente, per l'impresa o l'ente che eroga quel servizio. E la necessità di progettare servizi ha fatto emergere una nuova figura professionale, che è il service designer, il designer dei servizi. Proprio perché i designer non progettano più soltanto gli oggetti, ma esperienze più complesse. Cioè, storicamente, se tu dici cosa fa il designer, progetta una sedia, una lampada, progetta un prodotto fisico. Però in una società in cui la moltiplicazione dei prodotti ha portato a un consumismo molto alto, la sostenibilità ambientale ci dice che forse non possiamo più consumare questo numero così alto di prodotti, che forse questi prodotti bisogna condividerli, è creare dei sistemi di accesso a questi prodotti, forse progettare dei servizi e quindi progettare dei sistemi di accesso a quei prodotti, forse è il punto su cui vale la pena concentrarsi. Adesso io non vi cito tutti gli autori, sono fresca di dottorato, però molti autori sostengono che progettare i servizi sia un paradigma del progettista contemporaneo, che sia ingegnere, che sia architetto, che sia designer, che sia anche un operatore culturale, dico io, deve avere delle competenze di progettazione di servizi. Anche basilari, però devono far parte un po' della scatola degli attrezzi di chi si trova ogni giorno a interagire con dei cittadini, con degli utenti. E il servizio design si inserisce in quella era di transizione che questo autore famosissimo, che si chiama Rifkin, nel 2000 ha pubblicato questo libro, un libro molto profetico, che si chiama Valera dell'accesso, dove appunto parlava di questo passaggio dal possesso all'accesso. Cioè, qua, dato che Marta di Benieri ha fatto già una lunghissima lezione su questo, del passaggio dal possedere un'automobile al car sharing, cioè da possedere un oggetto a avere l'accesso a quell'oggetto, che non è più mio, perché io in fondo di cosa ho bisogno? Di muovermi. L'esame dei servizi pensa per funzioni, non pensa per prodotti. Non penso all'automobile, penso mobilità. Penso il problema monte, come faccio a muovermi? E tenta di risolverlo non soltanto con un prodotto che posso possedere, ma con un prodotto che è messo in condivisione. Infatti, questo lo dico, non è che fare servizi cancella i prodotti. Cioè, si creano dei sistemi, si chiamano di prodotto servizio. Anzi, i servizi hanno influenzato i prodotti. Faccio un esempio. A Milano c'è un sistema di bike sharing. Chiaramente, progettare una bicicletta per la condivisione è completamente diverso dalla bicicletta che una persona si compra per il suo uso quotidiano. Le biciclette del bike sharing hanno un sistema di attacco, chiaramente, alla banchina, hanno un sistema per la lettura della scheda. Cioè, anche quel prodotto è stato cambiato. Quindi, nel momento in cui progettiamo un servizio, progettiamo un sistema di artefatti, si chiama, dove il prodotto è uno dei tanti. Non ha più quella centrale importanza, però è progettato esattamente per quell'uso, per quell'accesso. E questa transizione, vi dicevo, è in continuo movimento. Vi dicevo, il passaggio dal possesso all'accesso negli ultimi anni, prima si parlava semplicemente Rifkin, 2000, l'era dell'accesso. Nel 2010 si è cominciato a parlare di sharing economy, più o meno. Il libro, che vi avrà citato sicuramente Marta, che è What's Mine is Yours, di Botsman e Rogers, Quello che è mio e tuo, è del 2010. Poi l'edizione italiana penso che sia arrivata nel 2011. Queste signore sono quelle che per prima si sono messe a parlare molto chiaramente di sharing economy, perché a San Francisco era nato Airbnb. Voi Airbnb sapete cose perché ve l'ha spiegato sicuramente Marta. E quindi hanno incominciato a descrivere e studiare questo fenomeno, che in quattro anni ha avuto una crescita enorme, tanto che le multinazionali, i venture capitalists, hanno incominciato a interessarsi, perché i fatturati e i numeri erano sempre maggiori. E di cui l'interesse per un'economia che è... Ciao a tutti. Di un'economia che in un certo senso è ancora di nicchia, ma che ha potenzialità molto alte. E cosa è successo? Che anche il service designer è dovuto evolvere. Cioè storicamente il service designer, il primo servizio che è stato progettato negli anni 90, è il Bancomat. L'interfaccia di un Bancomat. Il Bancomat in fondo è un servizio. E il service designer ha progettato tutte le azioni che servono per prendere i soldi col Bancomat. Schermata 1, schermata 2. Quali sono le azioni? Metto la tessera, digito il PIN, prendo i soldi. Tutte quelle cose sono state progettate da un designer di servizi. Quindi dalla fase 1 alla fase 5, qual è stata la progettazione? È iniziato un po' con la progettazione delle interfacce. Vi faccio una piccola digressione disciplinare. Nel mondo anglosassoni, il design dei servizi era una costola del marketing. Quindi è nato come, insomma, un'area che serviva per la customer experience, chiamavano gli anglosassoni, cioè per l'esperienza del consumatore. In Italia ha avuto una storia un po' diversa. È nata nelle facoltà di architettura, negli anni 90, proprio perché, vi dicevo, è una figura progettuale. Quindi l'architetto era il progettista praticamente più vicino a progettare un servizio. E vi faccio l'esempio. Progettavano, ad esempio, l'architetto progettava un ufficio postale e pensavo a com'era l'interno, pensavo a com'era lo sportello. Nel momento in cui tu pensi com'è quello spazio, devi pensare anche alle funzioni di quello spazio. Devi pensare anche a quello che accade. Ed ecco che in Italia i primi design dei servizi sono stati gli architetti. Negli anni 90. Infatti c'era, se non sbaglio, la laurea in architettura con l'indirizzo design e poi poco a poco si è sviluppata la facoltà di design e design dei servizi di cui io sono stata una delle prime laureate dei matti nel 2004-2005 a laurearci in questo indirizzo. Chi veniva a fare la facoltà di design voleva progettare sedie lampade. Quindi questo era anche un po' essere un animale strano, anche all'epoca, diciamo. E vi dicevo quindi, da una parte sono entrate in gioco in una transizione molto forte perché si progettavano già i primi servizi, lo sportello bancario, l'ufficio postale, i servizi di telefonia mobile. Cioè si incominciava a progettare questi servizi e contemporaneamente questi servizi però includono sempre di più l'utente, diventano sempre più collaborativi. Cioè l'utente diventa sempre meno passivo e sempre più attivo. Non solo. Come designer si incomincia a progettare insieme a questi utenti e non più da soli. Designer chiusi nello studio che fanno le loro progettazioni, brainstorming, eccetera. Non esistono più. Cioè sì, ci sono gli studi che fanno ancora attività tradizionali, però chiamare l'utente a progettare insieme a te è molto importante. Questo è un processo di collaborazione, di progettazione partecipata, che è importantissimo. Perché se ci pensate, chi conosce di più il servizio? Chi lo usa? L'utente? Chi che segnala i problemi, gli imprevisti? Chi che segnala cosa non va? E' per questo che bisogna progettare insieme agli utenti. E quindi qua vi ho riassunto un po' di passaggi. Dal design dei servizi tradizionali al design dei servizi collaborativi. Dalla dialettica fornitore-utente alla dialettica utenti-utenti. E la spiego meglio. E poi un po' tecnica. Dal design centrato sull'utente al design centrato sulla comunità, il community center design. Non solo a progetto con un utente, cerco di progettare con delle comunità vere e proprie. Perché questo, molto spesso i servizi ricadono su una realtà locale, sulla comunità. E progettare per quella comunità è un'operazione ancora più forte. In particolare i servizi pubblici. Perché se ci pensate, il principale fornitore di servizi è lo Stato. Cioè i servizi pubblici sono un grande argomento. E negli ultimi anni c'è stata una crisi grossissima, come sapete, del settore pubblico, il welfare state. Perché? Perché il servizio pubblico non progettava più per l'utente. A parte la questione economica, i tagli, eccetera. Ma progettavano per i bandi. Progettavano per i politici. Progettavano a monte, non a valle. Dimenticandosi che l'utilizzatore finale è l'utente. Nel momento in cui tu invece progetti per i bandi, spesso ti dimentichi chi usa quel servizio. È un classico problema che è accaduto, con cui mi scontro moltissimo lavorando con le cooperative, che lavorano nel settore pubblico. E in questa transizione la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale. Perché? Cos'è successo? Che queste comunità di utenti utilizzano la tecnologia in modo inedito, in modo creativo, in modo, un'accelerazione. Adesso vi faccio un esempio. Non è che il car sharing non esisteva, prima di internet e prima della tecnologia mobile. Il car sharing esisteva anche negli anni 80 a Berlino, fatto da volenterosi pionieri, che segnavano tutto in dei fogli. Cioè avevano proprio il, come dire, il faldone dove erano segnati tutti gli usi dell'auto, dove parcheggiava l'auto. Cioè dovevano proprio compilare, come dire, delle fatture, delle grandi ricevute. Lo facevano lo stesso. Non è che non lo facevano. Non è che il car sharing non esisteva prima della tecnologia. Era solo faticoso. E quindi chi lo faceva erano veramente dei pionieri. Erano appunto dei quattro mati berlinesi che già sentivano fortissimo il tema della sostenibilità. Con la tecnologia, chiaramente il car sharing è stato accelerato. Nel senso che è stato molto più semplice utilizzarlo e quindi questo ha allargato la base delle persone che lo usa. E ci sono stati vari passaggi dal car sharing di prima generazione al car sharing di seconda generazione. Adesso siamo a quello di seconda generazione che usa l'app. Quello di prima generazione usava una tessera anche per sbloccare l'auto. Quindi tutte queste cose hanno agevolato tantissimo i sistemi di geolocalizzazione. Quindi la tecnologia non è che ha reso possibile questi servizi, li ha accelerati. Questo possiamo dire. È stato un driver che ha permesso un'accelerazione. E qua vi do una definizione molto rapida di design dei servizi che la prima dottoranda in design dei servizi negli anni 90, Elena Pacenti, ha definito come progettazione dell'interfaccia del servizio intesa come zona, ambito, scena in cui hanno luogo le interazioni tra il sistema di dialogazione e il suo fruttore. Quindi come vedete una definizione molto semplice che vi dice che da una parte c'è un fornitore del servizio che è fatto da persone, da un luogo fisico e sensoriale, da oggetti e macchine. Dall'altra invece c'è un utente che fruisce delle informazioni che possono essere sia funzionali che simboliche, delle persone che hanno un aspetto un comportamento. Questa zona è la zona della relazione ed è lì la zona in cui si progetta l'interazione, quello che avviene, questo incontro diciamo. Detto questo, come dico sempre, questa è una parte che non si può progettare. Cioè, il comportamento delle persone non si progetta, le persone per fortuna non si possono progettare, si possono progettare però le condizioni che rendono favorevoli un'interazione piacevole, efficace e efficiente. Cosa è successo però? Che questa è la scherma tradizionale dei servizi, così come li abbiamo sempre intesi. La banca, lo sportello bancario, l'utente. Le poste, lo sportello delle poste, l'utente. I servizi collaborativi, cioè i servizi in cui gli utenti partecipano hanno uno schermino un po' diverso. E qua vi do una definizione di servizi collaborativi che è data da Ezio Manzini. Segnatevi questo nome perché è stato il primo a parlare di design dei servizi in Italia negli anni 90 a parlare di design della sostenibilità paradossalmente è molto più famoso all'estero che in Italia. Nemo profeta in patria come si dice. Ezio Manzini che è anche fondatore di questa rete internazionale che si chiama DESIS Design per l'innovazione sociale per la sostenibilità di cui il Politecnico fa parte e lui ha creato questa rete di laboratori nel mondo che si occupa di questi temi di design dei servizi per l'innovazione sociale. Beh, vi dicevo lui ha dato questa definizione i servizi collaborativi sono quei servizi che per poter essere erogati necessitano dell'attiva partecipazione di tutti gli autori convolti utenti finali inclusi. Cosa succede? Che nei servizi collaborativi non c'è più quella relazione bidirezionale tra fornitore e utente ma che le interazioni diventano circolari che ci sono tantissime figure cioè l'utente è progettista è fornitore è manager c'è il community manager di Airbnb che era un utente c'è il launcher si chiama in inglese c'è colui che lancia un'attività all'interno di un'area locale c'è l'utente ambassador si chiama in inglese colui che all'interno di una comunità online propone il servizio poi per carità ci sono sempre alcuni utenti che rimangono fruttori e basta ci sono vari gradi di essere attivi diciamo con questo non sto dicendo che scompare l'utente passivo c'è sempre quello che fruisce e basta sto dicendo che i ruoli sono distribuiti in un sistema di utenti che sono più o meno attivi e molto spesso ci sono degli utenti leader gli utenti più neri i first mover si chiamano in inglese i primi che si muovono che spesso sono quelli che portano avanti e il servizio viene qua questo è l'intervallo di progetto dove la rete diventa un abitatore un connettore e il designer qui non è che anche noi designer ci siamo dovuti io per fortuna sono venuta in una seconda fase riadattare non è che progetto più per le poste o per la banca ma progetto con questi signori se voglio progettare servizi collaborativi se voglio aiutare i servizi collaborativi a nascere meglio e qui vi faccio vedere anche una una schema che mostra nel design dei servizi tradizionali una separazione in un servizio c'è quello che si chiama il front office e il back office ossia quello che l'utente vede il palcoscenico in inglese lo chiamano anche stage e quello che l'utente non vede come quando entri in un ristorante ti siedi vedi i tavoli e le sedie non vedi la cucina non sempre infatti questa cosa adesso sta un po' cambiando ecco nei servizi tradizionali questa linea è chiamata la linea della visibilità questo schema si chiama blueprint io ve l'ho messo super semplificato perché in realtà c'è uno studio molto grosso su questa separazione quindi da una parte noi qua abbiamo l'utente il cliente e il cittadino che fruisce il servizio dietro abbiamo il fornitore che è fatto di staff management sistemi di supporto che molto spesso non vediamo è un sistema molto opaco invece oggi come sappiamo una delle parole chiave quando si parla di servizi è trasparenza cioè è sapere cosa succede qui dietro chi c'è cosa fa quali sono i ruoli eccetera eccetera e capisci bene che nei servizi collaborativi quella linea non ha più senso perché gli utenti sono anche dall'altra parte e quindi io l'ho chiamata un po' la mia tesi dottorato la linea della trasparenza non so se poi verrà usata o meno però l'utente e il fornitore del servizio fanno parte dello stesso gruppo ci sono ruoli differenti intercambiabili le risorse e i sistemi di supporto sono condivisi sicuramente è difficile far andare d'accordo tutti questi utenti quelli sono i problemi che poi ne parliamo però gli utenti fanno parte della stessa comunità si conoscono cioè il sistema è più trasparente semplicemente perché non abbiamo a monte un fornitore una multinazionale uno stato che non conosciamo opaco in questo caso c'è una trasparenza maggiore e cambiano anche i processi di progettazione chiaramente nei servizi collaborativi il servizio di dare si siede allo stesso tavolo con gli utenti quello che ho fatto in questi anni sedermi al tavolo con gli utenti di vario tipo cittadini anziani giovani eccetera è un processo faticosissimo la progettazione partecipata come ogni processo democratico è molto faticoso infatti ogni tanto mi chiedo ma chi me l'ha fatto fare però da molte soddisfazioni qua appunto vi mostro normalmente cosa faceva il designer o il ricercatore iniziava con un processo di teoria di analisi raccoglieva risultati poi incominciava a fare un brainstorming faceva sviluppava l'idea di servizio eccetera eccetera in questo caso sono tutti allo stesso tavolo il designer cosa fa? facilita questa progettazione offrendo degli strumenti a delle persone ma poi vi parlerò in maniera più precisa e non solo può coprogettare ma può anche coprodurre l'utente qua vi ho messo uno schema che fa vedere i vari livelli di partecipazione no? partiamo da qua perché questi sono veramente più non partecipa però l'utente può essere semplicemente informato l'utente può essere consultato pensate a tutti i processi di consultazione pubblica che oggi hanno aperto la buonascuola.it non so se ne avete sentito parlare quello è un processo in cui l'utente viene coinvolto no? viene consultato quindi stai in parte coprogettando ancora a un livello molto leggero diciamo però ti stiamo chiedendo delle opinioni dei riscontri e via dicendo poi in realtà lo puoi fare molto più forte lo puoi veramente coinvolgere scusate ci sono molte parole in inglese che appaiono voi fermatemi lo puoi veramente coinvolgere in maniera più attiva puoi coprogettare con lui e poi coprodurre coprodurre significa che il servizio viene fornito anche dagli stessi utenti pensate BlaBlaCar sicuramente veniva parlato Marta Mainieri che è un servizio di carpooling dove le persone mettono in comune i viaggi però quello è un servizio coprodotto perché io metto in comune la mia auto la mia capacità di guidare metto in comune i miei percorsi quello significa coprodurre quindi è il grado più alto di partecipazione di un utente a un prodotto a un prodotto servizio scusate e qua ho riassunto e ho finito la parte teorica che però insomma da ricercatrice mi interessava darvi anche in pillole molto leggere ho fatto uno schemino un po' con l'accetta che fa vedere i servizi tradizionali e i servizi collaborativi ve lo dicevo prima i servizi tradizionali sono bidirezionali fornitore utente i servizi collaborativi invece queste interazioni sono circolari o comunque multiformi i servizi tradizionali sono caratterizzati dall'anonimità io non conosco chi mi offre quel servizio è anonimo è le poste sistema opaco invece molto spesso nei servizi collaborativi ci conoscenza diretta conoscerò l'autista di BlaBlaCar organizzazione gerarchica nei servizi tradizionali cioè guardiamo quello che c'è dietro quello che chiamavo prima il backstage le varie figure sono organizzate in maniera gerarchica come così accade molto spesso in moltissime aziende invece nei servizi collaborativi l'organizzazione è a rete è tra pari no? peer to peer ci sono delle gerarchie leggere si stanno strutturando questi modelli però di fatto non è più quella piramide nei servizi tradizionali l'utente è servito cioè sfruisce di quel servizio molto spesso quasi passivo nei servizi collaborativi l'utente è abilitato cioè deve imparare a fare delle cose le fa e fruisce di quel servizio nei servizi tradizionali si suppone perché non sempre accade che chi ti fruisce quel servizio sia un esperto sia un grande professionista no lo sportello bancario tu dietro hai un impiegato che in teoria è molto preparato è formato per darti un servizio nei servizi collaborativi questo è un argomento di discussione perché faccio un esempio anche sono nati alcuni asili nelle case delle mamme i cosiddetti micronidi non è detto che la mamma che ti tiene il bambino sia così esperta come la maestra di una scuola materna però si sta assistendo a una nuova generazione di nuovi esperti si chiamano figure semiprofessionali tra amatoriale e professionale che un po' però grazie anche alla rete grazie a sistemi di conoscenza più diffusi sono figure che in parte si possono formare questo è un grande problema questa dicotomia nuovi esperti o professionisti infatti questa dicotomia mostrano anche dei punti critici perché come i servizi collaborativi i servizi della scena in economia stanno nascendo adesso e quindi adesso non tanto sono già in una fase in cui i problemi stanno venendo a galla beh ancora una volta vi dicevo che i grammi standard nuove figure professionali divisione monotoneta tra pubblico e privato i servizi pubblici e i servizi che mi erogano invece aziende private voda, fontelle come mi danno servizi di telefonia questa cosa questa linea nei servizi collaborativi è un po' più ibrida si sta creando questa sorta di area un po' a metà tra pubblico e privato soprattutto non tanto in Italia ma guardando quello che accade nei paesi anglosassoni si vede come il pubblico si stia aprendo a nuove possibilità e quindi questi servizi sono coprodotti da Stato aziende del terzo settore cooperative utenti in Italia storicamente c'è un rapporto tra il settore pubblico e cooperative ma non è che le cooperative sono composte per forza da utenti per dirvi che questo mondo si sta un po' ibridando e in realtà anche il settore pubblico si sta aprendo a questo questo è molto interessante anche per pensate a tutti gli open data di cui si parla i comuni e le regioni hanno tantissimi open data non sanno che farsene ve lo dico chiaramente nel senso che invece da questi open data pensate ai dati ambientali si possono invece creare dei servizi o partecipevo cosa intendiamo per l'open data che è un'ambiente nuovo allora ci sono facciamo l'esempio i comuni e le regioni hanno tanti dati questi dati molto spesso se li sono tenuti per anni nel senso che sono stati nei loro scaffali nel momento in cui sono stati digitalizzati questi dati possono essere resi fruibili anche dagli utenti attraverso la rete soltanto che molto spesso questi dati sono incomprensibili e quindi ci bisogna di un processo di traduzione ho partecipato a degli eventi che si chiamano sono dei workshop sostanzialmente a Caton Civica ne ho fatto uno con la regione toscana dove loro mettevano a disposizione i loro dati avevano molti dati ambientali sul territorio ad esempio che sarebbero stati utili per fare dei servizi delle applicazioni per prevenzione delle catastrofi ecco pensare cosa fare di quei dati ambientali e pensare che forse quei dati potevano essere riutilizzati per fare un'applicazione che ti segnalava ti mappava un territorio ti faceva vedere delle aree era un esempio di come usare quei dati e adesso questa cosa la puoi fare in maniera aperta e via dicendo poi è un processo lunghissimo infatti insomma siamo solo all'inizio beh continuo quasi finito nei servizi tradizionali la rete è vista come strumento quindi semplicemente come un canale che ti si dà un servizio in questo caso è più vista come un abilitatore come un connettore cioè la rete è al centro di questi servizi ma state Airbnb senza la rete non esisterebbe e poi questo che quasi non si vede i servizi tradizionali si focalizzano sul come i servizi collaborativi si focalizzano sul perché e questa è per me una divisione chiave che quando l'ho scritto ho detto è semplicissimo però adesso mi è sembrata una ragione fondamentale focalizzarsi sul come com'è questo servizio efficace efficiente per una banca è importante che il suo servizio funzioni efficace efficiente fine cioè valutano molto la performance del servizio funziona o non funziona in quanto tempo ci metti a espletare quella funzione punto nei servizi collaborativi invece si focalizza sul perché perché io mi dovrei impegnare a partecipare a questo servizio perché dovrei dare il mio tempo perché dovrei dare la mia competenza la mia auto cioè si focalizza sui valori condivisi di quella comunità e c'è un attaccamento valoriale anche in un certo senso per partecipare a un servizio di questo tipo non tutti perché secondo me un car sharing come quello che c'è a Milano in cui condividi l'auto non so se avete sentito parlare di Enjoy o Car2Go che sono i principali provider lì però l'auto cioè Enjoy è di Eni rischia di diventare un servizio come un altro bla bla car in cui metto invece in condivisione l'auto e le persone già lì collaboro infatti c'è una bella differenza tra condividere e collaborare condividere un'auto con l'auto di Eni faccio un po' un servizio a Eni però è un servizio anche a me perché comunque ci sono ho un'auto a disposizione è un servizio alla sostenibilità ci sono meno auto in giro in teoria e via dicendo bla bla car invece io ci vedo un valore sociale anche ci vedo anche un valore collaborativo oltre che come sapete la leva principale economica cioè io risparmio perché i servizi collaborativi se ne parla adesso? punto non volo perché c'è stata una crisi fortissima e quindi mentre prima i servizi collaborativi erano un po' degli innovatori degli eroi improvvisamente invece molti dei servizi collaborativi sono diventati utili per risparmiare e quindi nel momento in cui la linea degli innovatori si salda con la linea di chi ha bisogno avviene una grande trasformazione sociale questo non lo dico io lo dice Manuel Castels che è l'autore di The Network Society e questa secondo me è una cosa molto vera cioè quando si salda la linea di chi ha bisogno con la linea dell'innovazione accade un cortocircuito interessante perché le persone iniziano a usare soluzioni innovative perché ne hanno bisogno perché risparmiano perché gli conviene pensate alle nuove generazioni ai millennials cioè quelli che hanno che siete voi molti di voi io non lo sono per un anno che hanno compiuto 18 anni negli anni 2000 queste persone non possiedono quasi niente sia perché sono giovani vabbè però già moltissime le case automobilistiche si stanno preoccupando e dicono provate a vendere un'automobile a un millennial non ne ha bisogno cioè lui già nasce con un mindset con un assetto mentale che l'auto forse non se la comprerà forse non si compra neanche la casa io non possiedo una casa non so tanto perché non me la posso permettere perché a Milano ha dei prezzi preubitivi ma ci sto pensando perché la devo comprare in Italia poi questo è un discorso parecchio no? siamo molto attaccati al mattone viviamo con poco i millennial vivono con poco sono abituati a comparare continuamente i servizi sono abituati a volare low cost sono abituati ad avere pochi oggetti cioè sono delle riflessioni sociologiche che un po' fanno pensare non sono tutti così ovviamente però molti lo sono e se pensate ad alcuni paesi come la Germania in cui questo fenomeno è stato analizzato molto insomma forse i millennial saranno veramente quelli che incarnano l'era dell'accesso vent'anni dopo quando l'ha detto Rifkin nel 2000 vi faccio alcuni esempi di servizi collaborativi io non so se mi ripeto alcune cose di Marta ma forse no perché io vi metto i servizi che mi hanno più interessato anche come designer di servizi ma questa è una carrellata super veloce The People Supermarket è un supermercato collaborativo ve l'ha presentato? no benissimo secondo me questo è uno dei servizi più interessanti perché sradica una logica è nato a Londra ma si rifà a un supermercato che è nato a New York negli anni 70 che si chiama Park Slope Food Coop a Brooklyn cosa succede in un supermercato collaborativo che tu non puoi acquistare se non lavori lì dentro e vi spiego perché in grandi città come New York e Londra l'accesso a cibo fresco di qualità è un problema serio nel senso che i prezzi sono molto alti e molte persone non se lo possono permettere quindi il supermercato collaborativo è nato inizialmente non in maniera molto diversa dalle cooperative italiane se posso dire in cui alcuni utenti si sono messi a scegliere come in un gruppo d'acquisto i produttori però poi cosa è successo hanno fatto un vero e proprio punto vendita in cui loro stessi sono magazzinieri sono quelli che mettono a posto i prodotti e via dicendo ora per acquistare in questo supermercato tu ti devi iscrivere devi diventare membro e devi svolgere il tuo turno mensile se non sbaglio qui di 4 ore non è neanche una cosa molto gravosa io sarei disposta a lavorare 4 ore al mese in un supermercato secondo dei turni per avere accesso a cibo fresco di qualità con sconti molto bassi quindi lo scambio è io lavoro e acquisto a preti stracciati dimmi mi pensavo ma la burocrazia come si colloca in questo contesto? non a caso è nato in Inghilterra e negli Stati Uniti detto questo nel senso che loro poi si sono chiaramente costituiti non so se sono una social enterprise in Inghilterra e negli Stati Uniti una co-op una cooperativa però l'abbiamo studiato anche al Politecnico per cercare di capire come fare in Italia perché loro hanno trovato prima di tutto se non sbaglio sono partiti con 100 membri che hanno versato una quota se non sbaglio era 100 dollari una tantum quindi si sono creati un piccolo patrimonio hanno trovato uno sponsor questo se non sbaglio a Brooklyn nella Park Slope Food Coop e hanno aperto il primo punto vendita detto questo gli altri non possono comprare questa cosa io non posso andare a acquistare liste non divento membro e se non ci lavoro finisco e poi fatemi domande l'altro dettaglio è questo che chiaramente ci sono dei lavori molto specialisti che gli utenti non possono fare cioè l'ha detto al bancone della macelleria alla fine hanno assunto uno e lo pagano quindi non tutti i lavori possono essere svolti ma la maggior parte lo fanno gli utenti e man mano che la cosa cresce e siccome a New York c'è dagli anni 70 ci sono dei soci molto anziani che quindi hanno avuto una molta esperienza sono processi che si sono migliorati nel tempo prima facevano il processo decisionale di scegliere i produttori litigavano poi hanno trovato dei sistemi per prendere decisioni insieme eccetera eccetera quando ho fatto ho fatto un periodo di ricerca a New York che è durato sei mesi ho cercato di scrivermi dannatamente a quello di New York non ci sono riuscite era sempre pieno in Italia non esiste però poi vi faccio vedere che abbiamo provato un po' il Politecnico a pensare abbiamo fatto anche un conto di quanta massa critica ci serviva per partire abbiamo trovato anche un posto però insomma se non lo facciamo in Italia mi viene da dire dove storicamente abbiamo delle cooperative abbiamo i territori abbiamo le campagne connesse alle città cioè lo fanno a New York dove Brooklyn è molto lontana è a Londra di tipo il supermarket che come vedete c'è un designer che si è messo e ha disegnato tutto cioè l'immagine coordinata ha una grafica riconoscibile hanno fatto un luogo fatto appunto per acquistare prodotti con una certa ottica dimmi ho già risposto o basta è un'esigenza particolarmente sentita probabilmente è un'esigenza particolarmente sentita probabilmente in Inghilterra e in America quella del cibo fresco mentre in Italia acquistiamo anche a chilometro zero abbiamo poi soprattutto al sud acquistiamo esatto perché a Milano questo è un problema quasi come a Londra e New York te lo dico chiaramente io non sono di Milano sono sarda e nella mia vita milanese l'acquisto di verdure ortaggi che non avevano praticamente il sapore a un certo punto è diventato un problema perché se da studente un po' me ne fregavo a un certo punto ho detto vabbè però continuo a mangiare cibo che non sa di niente se lo compro al supermercato e quindi mi sono cominciata a cervellare per trovare soluzioni perché andare dal negozio di frutta e verdura era come andare dal gioielliere cioè uscivo con boh provvisamente sono uscita da una busta di 30 euro di verdure ci hai mangiato un mese no? una settimana quindi in realtà in alcune grandi città del nord è un problema anche un po' se vuoi anche territoriale no? e quindi secondo me è un probabilmente anche in alcune altre città d'Italia penso a Torino non lo so anche a Roma se ne parla quindi però il modello di servizio secondo me è molto interessante è molto interessante prestare il tuo lavoro organizzare dei turni capire come funziona questo è veramente un servizio come vi dicevo coprodotto proprio perché si partecipa attivamente alla coproduzione fai quello che sai fare cioè scarichi le casse metti a posto i prodotti metti il prezzo cioè non ti viene chiesto niente di particolarmente difficile questo anche agent anything non so se ve l'ha presentato bene questo è un servizio vuol dire agente di qualsiasi cosa è nato in Canada e poi a New York c'è anche in Italia penso che si chiama Tabit in Italia ed è un servizio che serve per scambiarsi piccole mansioni quotidiane cioè io non ho tempo di andare in farmacia pagare le bollette fare la spesa lo chiedo a qualcuno che è disposto a farlo per un prezzo tutto sommato accettabile questo qua si differenzia dagli altri perché chi fa il lavoretto la missione la chiamano è uno studente quindi questa piattaforma mette in contatto diretto gli studenti delle università di New York con le persone che hanno bisogno di queste attività in un certo senso scegliere studenti è una sorta di garanzia di fiducia perché tu per diventare un agente devi mostrare il tuo tesserino universitario devi mostrare è una sorta di secondo lavoro di reddito complementare per gli studenti e secondo me questa chiave è stata molto interessante perché ha creato un sistema di fiducia perché a volte insomma li mandano anche a fare delle mansioni un po' delicate e questa cosa a un certo punto ha funzionato un po' di più si sono stabilite poi delle relazioni un po' più durature ogni volta la missione la contrattano online dicono ok voglio andare a fare questa cosa ti do 10 dollari l'altro ti risponde guarda lo faccio per 15 l'altro risponde no forse te ne do 12 fatturano e questa è la differenza e tutto funziona con la carta di credito ed emergono anche una fattura cioè chi chiede il lavoro è registrato alla piattaforma con la sua visa eccetera eccetera e questa cosa è legale negli Stati Uniti tanto che poi da New York si è spostata a Los Angeles se non sbaglio a Philadelphia ce ne sono tanti c'è un altro molto simile che è TaskRabbit forse vi ho parlato anche di questo TaskRabbit è diventato gigante cioè ha fatturati insomma interessanti una startup di quattro mesi fa si chiama il maggior tempo ecco vedi secondo me sono utilissimi veramente per persone che non hanno tempo anche perché a volte contratti veramente per pochi soldi sono lavorate cioè a Milano ce n'era stato uno anni fa che si chiamava Faccio Io che era stato interessante però non c'erano ancora le app quindi era tutto con un sistema di sms e poi ce n'è stato un altro proprio figlio della crisi che insomma non è simile però è il codista questo signore che si è inventato come lavoro di fare le code per gli altri è un signore se non sbaglio di 50 anni quindi non parliamo qua del giovane start-up ruspante parliamo di uno che era stato licenziato ma anche nel traffico no fa le code purtroppo soltanto agli uffici burocratici italiani sarebbe fantastico questa è un'idea segnatela e lo fanno del traffico allora loro sono stati già come dicevano i professori c'è già tutto e quindi ogni volta non è tanto trovare l'idea geniale ma strutturarla bene e niente vi dicevo il codista è mettere la nota occasionale sapete la nota occasionale in Italia che le puoi mettere fino a 5.000 euro all'anno adesso sta pensando di aprire la partita IVA interessante e anche sta già collaborando non dico con uno stagista con un aiutante che fa le code non lo so questa è una è figlia della crisi non è proprio un servizio collaborativo però è su questo tema di fare i lavoretti diciamo scusate questo non ve l'avevo detto Milk Please è italiano anche se ha un titolo inglese questa è stata una start up che secondo me è emblematica per raccontarvi come le start up a volte falliscono cioè l'idea era di fare un'applicazione per abitanti dello stesso quartiere dello stesso condominio che ti serviva per segnalare se eri in un supermercato cioè tu nel momento in cui entri in un supermercato ti attivi geolocalizzi che sei là e attivando ti rendi disponibile per comprare qualcosa per qualcuno il latte ad esempio cioè il tuo vicino di casa vede che sei a supermercato e ti può chiedere di comprare qualcosa chiaramente c'è un accordo nel senso che tu non puoi chiedere di fare la spesa del mese ti sei dimenticato qualcosa due o tre due o tre prodotti e questo accetta e te li porta a casa perché abita vicino a casa tua se non sbaglio anche qui pre-descrizione con la carta di credito ha avuto un grande lancio il video una bellissima grafica eccetera sono andata recentemente e non funziona più cioè ho visto che non va e un po' la domanda me la sono fatta questo è un classico servizio che è nato sulla piattaforma su internet tecnologicamente ma non funziona se non hai rapporti con le comunità locali punto cioè nel senso che devi avere prima attivato un po' di comunità locali cioè devi andare nei quartieri a parlare con la gente a capire chi lo può fare e chi non lo può fare devi fare un po' di lavoro sul territorio se no non funziona almeno per partire ti devi creare la massa critica in tre o quattro quartieri è inutile lanciare una cosa online che si basa sulla geolocalizzazione sul rapporto di vicinato se prima non lavori lì sul territorio e questo è un errore che fanno secondo me molte start up che dicono ok facciamo una piattaforma e poi deserta non la usa nessuno ma infatti disse disse Marta che se il progetto non decolla nella prima settimana cioè non per raggiungere massa critica sì massa critica bisogna subito vedere come va dall'inizio questo è un problema fondamentale trovare la massa critica ma io dico la trovi incominciando a partire dal territorio non soltanto dalla rete cioè è un lavoro che è tra digitale e locale e funziona l'approccio combinato piuttosto che un approccio solo devi lavorare su tutti e due i fronti quest'altro beh secondo me che vi ho portato proprio casi diversi perché poi a me interessano proprio i modelli in cui l'utente è fortemente coproduttore cioè i modelli più spinti diciamo questo è abbastanza spinto è una sperimentazione che ha fatto di HL la conoscete di HL trasporto di pacchi in Germania si sono detti regola numero uno della sostenibilità usare l'esistente ci sono delle persone che tutti i giorni fanno un percorso sono pendolari vanno dal punto A al punto B c'è una città intera che fa dei percorsi perché non usiamo i percorsi pendolari per dargli un pacco e non l'ha pensato un giovane start-up della Silicon Valley l'ha pensato di HL quindi quando vi dicevo che anche le multinazionali stanno incominciando a guardare questa realtà con occhi nuovi questo è un caso parliamo di una sperimentazione siamo ancora alla fase zero cosa hanno fatto? semplicemente hanno chiesto ad alcuni pendolari anche lì lavoro sul territorio chi si rende disponibile a trasportare un pacco anche lì le dimensioni non devono essere troppo grosse non devono essere troppo pesante cioè hanno stabilito delle regole c'è una app che ti aiuta a mettere in contatto chi vuole mandare un pacco con chi lo può consegnare i problemi sono a monte e a valle cioè dove lo ritiri e avevano fatto una specie questo forse è un punto debole secondo me ve lo dico da design dei servizi un distributore automatico dei pacchi cioè dove vai a ritirarlo è una specie di distributore automatico secondo me questo allunga un po' il percorso ha dei problemi ti devi reccare in un punto mentre la consegna è più intelligente molto spesso la fai o nel bar della stazione e lì accordo con l'attore locale il bar della stazione per quello che vi dicevo importantissima la connessione territoriale ti accordi con il bar della stazione e lo lasci lì proprio perché tu difficilmente riuscirai a consegnare la casa di quella persona ma lo lasci in un punto pubblico tra virgolette in uno spazio a metà tra pubblico e privato e lì poi la persona passa e se lo piglia il servizio ha un sacco di problemi quello che so li vedete già da voi e poi la persona si dimentica di passare il bar deve chiudere ce ne sono tantissimi quello che io ho trovato molto interessante è l'idea di usare delle risorse nascoste cioè i percorsi dei pendolari di tre che sono tutto sommato puntuali in Germania e funziona quest'idea di usare l'esistenza cioè è una cosa che dobbiamo sempre guardare cosa c'è già che posso usare prima di rinventare la ruota molti miei studenti mi dicono allora facciamo una piattaforma ma usa facebook fai un gruppo di facebook perché devi ricostruire una piattaforma che devi programmare la devi disegnare cioè a volte veramente non c'è bisogno di altro usa uno strumento di google un google doc cioè a volte sai si pensa che devi costruire chissà cosa invece anche facendo un accrocchio diciamo così di quello che c'è già qualcosa riesci a farla almeno per partire poi magari se migliori crei una cosa più sofisticata questo forse ve l'ha detto o ce ne sono simili anche in Italia Loc Loc il suo corrispettivo italiano neighbor goods l'originale nato negli Stati Uniti lo scambio di oggetti tra vicini e qui c'è il classico esempio della scena in che coni perché comprare un trapano che uso soltanto una volta al mese quello è classicamente una tipologia di prodotto che non conviene acquistare perché in fondo io non ho bisogno del trapano ma ho bisogno del buco come si dice sempre e quindi neighbor goods che è nato se non sbaglio a San Francisco strano che è la città dell'innovazione dove è nato quasi tutti questi progetti hanno creato una specie di Facebook degli oggetti quindi online c'è il profilo dell'oggetto che è chiaramente taggato per categoria utilizzo frequenza per tipologia di transazione lo vuoi affittare lo vuoi prestare cosa vuoi fare per quanto tempo lo dai qual è la frequenza eccetera si incontrano perché sono vicini di casa e quindi sono tutti già localizzati e a questo punto si scambiano l'oggetto e poi viene restituito con un successivo incontro o con l'accordo che loro fanno hanno fatto un sistema di assicurazione se l'oggetto si rompe se l'oggetto ha problemi e questo secondo me è un altro aspetto interessante anche in Italia le assicurazioni stanno incominciando a pensare a offrire dei pacchetti per queste tipologie di servizi quindi cambia il mercato anche le assicurazioni tentano di capire dove si devono direzionare non è un caso che Unipol ha fatto recentemente un bando di incubazione di start-up in cui sono mentor di design di servizi tra i start-up sono nuovi modelli assicurativi perché proprio c'è una domanda e quindi è inutile che continui a fare il pacchetto pesante di assicurazione soltanto per casi conosciuti c'è tutto uno strato emergente che ha bisogno di essere regolamentata i rischi hanno bisogno di essere minimizzati e via dicendo altri tre allora Splinster è un bike sharing peer-to-peer cioè è un bike sharing è il bla bla car delle biciclette per intenderci è a Los Angeles quindi le biciclette delle persone sono messe in condivisione come se io mettessi in condivisione la mia bicicletta cioè la rendo disponibile tre giorni a settimana che so che non la uso lì c'è un sistemino di attacco alla bici è una specie di geolocalizzatore che tu ti devi installare quindi il servizio ti dota di un sistema devo dire che non so se in Italia hanno provato a farlo una start-up che si chiama Occo Bici che non so che fine ha fatto un altro dei fallimenti di start-up le hanno rubate tutte no beh hanno il sistema comunque cioè anche lì avevano fatto un sistemino di geolocalizzazione dovevi chiudere insomma te la possono rubare come ti possono rubare la tua bicicletta il rischio è lo stesso diciamo no la cosa interessante che è successo a Los Angeles che è diventato di moda e qua si è attaccata la linea di essere cool di essere di scambiarsi la bici con un bisogno ed è diventato quasi una cosa tra biker cioè si prestano anche bici molto costose quindi qua si è attaccata a un fenomeno di costume è stato molto interessante alla fine che ha fatto questo servizio è diventata una cosa per hipster passatemi il termine per non so sapete cosa è un hipster un po' un fighetto un po' metropolitano alternativo radical chic lo avete tutte però la massa critica da quella lì l'hanno individuata e l'hanno capito bene capire chi è il tuo utente è fondamentale il primo esercizio di oggi è capire chi è l'utente alla vostra idea se tu non capisci a chi ti sta direzionando e dici il mio servizio va un po' bene per tutti va bene anche per il cittadino normale cosa? no non funziona devi essere molto specifico almeno inizialmente cioè quella massa critica di cui dicevo quei primi first mover ce li devi aver chiari poi allarghi hai sempre tempo per allargare ma è meglio sempre partire con un target preciso questo non è un servizio collaborativo però in parte lo è è un gruppo facebook che ha fatto il comune di Milano che si chiama Copia e Incolla per Milano sono cartolina elettronica da tutto il mondo per costruire sia una realtà migliore cioè il comune di Milano diceva milanesi se voi siete in viaggio in un'altra città del mondo e vedete una pratica che vi piace segnalatacela mandateci la cartolina scattate una foto e postatela sul gruppo facebook ti piacciono le strisce pedonali come sono Mosca foto e la mandi ti piace come hanno fatto un parco a New York segnali un servizio che hai visto a Londra questo sito si è riempito di ogni la cosa che io trovo molto interessante è che questo è un sito di proposta non di lamenti ci sono tantissime piattaforme come voi sapete stanno nascendo piattaforme per segnalare la buca nella strada piattaforme per segnalare che il cassonetto è stato incendiato piattaforme per segnalare che il numero civico non si vede che il lampione sia spento rischiano di diventare dei lamentatori poi in particolare in Italia siamo bravissimi a lamentarci qua hanno praticamente capovolto questa logica in crowdsourcing cioè noi vogliamo idee vogliamo proposte e quindi in realtà se ci pensate a quello schermino che vi ho fatto vedere prima informare consultare coprogettare coprodurre siamo nella prima fase consultare consultare i cittadini per sapere qualcosa è un inizio di coprogettazione tanto che da queste pratiche è nata una specie di attività di servizio del comune di Milano che si chiama Mary Poppins che era una geolocalizzazione diario dove le donne possono allattare una cosa molto semplice però dire guarda lì puoi andare allattare lì 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 niente non c'è neanche uno scambio di denaro però era una pratica segnalata da una mamma milanese che l'aveva vista in non so quale città quindi magari anche da piccole cose possono nascere piccoli miglioramenti io dicevo siamo nella fase di consultazione che precede la coprogettazione però secondo me già attivare l'utente in questo senso è l'inizio anzi ti porti a casa molti suggerimenti Piano City ve ne abbiamo parlato questo è un evento collaborativo quindi avrete già capito ci sono confini molto molto flessibili molto ibridi tra eventi collaborativi servizi collaborativi iniziative pratiche di attivismo siamo in una in un'area molto magmatica Piano City è un evento culturale in cui i protagonisti sono i cittadini è un weekend che ormai si fa due volte all'anno a Milano dove chi ha un pianoforte e può fare un concerto di 40 minuti si iscrive a questa piattaforma e fa parte di questo palinsesto di concerti di pianoforte per due giorni devi rispettare delle cose devi avere almeno un soggiorno che ospita 30 persone però puoi fare il concerto dove vuoi a casa tua per strada e quindi il comune dà tutti i permessi per farlo in quel weekend è una specie di fine settimana libero diciamo però prima devi esserti iscritto chiaramente a Piano City devi dire cosa suonerà e chi suonerà per quanti minuti suoni quante persone sei disposta ad accogliere si è popolato e quindi è nato che nei giardini di Porto Venezia Ludovico Inaudi ha partecipato a Piano City quindi ci sono magari degli eventi super di livello alto lavoro fatto appunto nei giardini di Porto Venezia a Piazza San Bavila eccetera e poi anche nelle case c'erano tante cose io non sono riuscita ad andare perché era sempre pieno è incredibile è stato un weekend in cui andavi in giro sembrava il Salone del Mobile che è l'altra settimana in cui Milano diventa un'altra città ed è nato anche in maniera molto bassa tre anni fa se non sbaglio dà l'idea di uno cioè come vi dicevo e poi è diventato veramente un evento coprodotto metto a disposizione un mio bene il pianoforte una casa non è poco uno spazio privato e mi iscrivo in una piattaforma qua chiaramente è stata un'accelerazione grazie alla tecnologia molto forte e altro attore fondamentale che è entrato in questo servizio evento è il comune che si è dimostrato molto disponibile ti facilitiamo l'iscrizione ti facilitiamo l'accesso dello spazio pubblico l'uso dello spazio pubblico insomma in questo caso l'attore istituzionale è stato molto importante l'ultimo di questa prima carrellata che vi ho fatto la trade school mi ha parlato di questo bene ho finito la carrellata e non ci sono stati doppioni di servizi la trade school per me è un altro tipo di servizio molto interessante perché non è proprio un servizio anche in questo caso siamo a metà tra attivismo e servizio è una scuola fondata sul baratto quindi non è come la piattaforma Skillshare quella sì che ne avrà parlato in cui le persone si scambiano competenze online cioè io so fare ti do una lezione d'inglese online tu mi disegni un logo perché sai usare i programmi di grafica qui invece succede così le lezioni vengono fatte in uno spazio fisico a Milano si facevano in uno studio di grafica che aveva deciso che poteva questi ragazzi molto illuminati hanno detto ok noi apriamo il nostro spazio lavorativo per fare una trade school un maestro propone una lezione che può essere di qualsiasi tipo mi insegno a fare i tortellini mi insegno a fare un tavolo mi insegno a programmare quindi vi faccio due lezioni di di javascript non lo so vi faccio delle lezioni di vario tipo e dicono sono disponibile a accettare un massimo di 30 studenti si iscrivono avviene la lezione lo scambio che semplicemente molto spesso il maestro gli danno un regalo niente di più molto spesso tipo quando avevano fatto i tortellini gli hanno regalato i tortellini al maestro e tutti quanti si impegnano a portare nel caso o le materie prime che sono necessarie o se devono fare una lezione appunto di programmazione in loro computer e via dicendo basta la trade school è nata in America è un formato proprio in cui ti iscrivi quelli di Milano se erano iscritti adesso a Milano non c'è più questo è il logo forse qua si vede la pagina Facebook della trade school di Milano che adesso purtroppo non c'è più perché comunque ci vuole fatica ogni volta per organizzarla cioè è un servizio totalmente volontario totalmente collaborativo ah nei Stati Uniti è diventato veramente un fenomeno di massa cioè che secondo me qua la cosa positiva è questa ansia di imparare cose vado e imparo a fare una cosa e io ti do la mia competenza per il piacere anche di scambiare questo chiaramente qua dov'è il modulo di business non esiste ma è interessante forse portandolo avanti ci può avere un modulo di business il share quasi ce l'ha no? perché non solo si scambiano competenze ma alcuni pagano se non sbaglio quindi sono modelli ibridi di business quasi sempre va bene bevo un attimo e passo al secondo argomento poi non so se di solito ho fatto una pausa a metà ma insomma ancora presto per farla faccio mezza 12 ah ok poi voi mezza 12 magari voi fatemi domande eccetera poi magari me le fate ho già risposto però fermatemi quando volete perché io ho la tendenza a parlare parecchio allora cittadini creativi e vi racconto questa esperienza è una sperimentazione che ho portato avanti nel mio progetto di dottorato io sono un'accademica un po' particolare perché vengo in realtà dal mondo del mercato nel senso che io lavoravo in un'agenzia di design che era molto illuminata e mi permetteva di andare a fare l'assistente una volta alla settimana all'università finché mi sono resa conto che nel mercato avevo poche possibilità di sperimentare delle cose che avevo in testa ho vinto una borsa di studi di dottorato e ho deciso di farci questo progetto l'idea era io progetto dei servizi locali per un quartiere insieme ai cittadini stessi molto semplice la progettazione partecipata è vista negli anni 70 Renzo Piano aveva fatto un famosissimo workshop per progettare una piazza insieme ai cittadini però quella era la progettazione partecipata degli architetti progettare i servizi è una frontiera nuova invece insieme ai cittadini e quindi l'idea è stata lo faccio in un quartiere di Milano che è questa la zona 4 e creo uno spazio d'incontro tra cittadini designer possibilmente istituzioni attori locali in questo spazio d'incontro io metto a disposizione il mio sapere di design dei servizi i miei strumenti per progettare dei servizi che secondo voi mancano in questo quartiere l'ho fatto in un luogo molto bello in un luogo chiave di quel quartiere che è la cascina cuccagna e qua la vedete è un luogo simbolo dell'attivismo milanese è una cascina che è stata salvata dai cittadini si trova abbastanza in centro in una zona che si chiama Porta Romana era una cascina che era stata veramente abbandonata fin quando un gruppo di cittadini negli anni Ottanta hanno creato un consorzio un progetto di restauro e l'hanno rimessa a nuovo quindi quando vi dico che è un simbolo perché è un simbolo dal basso più dal basso di questo adesso è in una situazione che è questa che vedete è uno spazio verde dentro Milano sembra di stare in campagna ma siamo in centro a Milano c'è un giardino ed è un luogo che ambisce diventare un centro di partecipazione territoriale ha un sacco di problemi perché i cittadini hanno contratto un debito per restaurarla che stanno istinguendo ci sono delle attività dentro c'è un bar c'è un ristorante è il problema di questi spazi che hanno appunto dei modelli in parte collaborativi partecipativi con delle attività a scopo sociale in parte i soldi a casa li devi portare e quindi mischi un po' con un'attività profit e no profit diciamo così qua la faccio vedere ve la racconto brevemente la storia perché è molto bella la vedete come era prima cioè era così chiusa adesso è così il fatto che vi dicevo prima quando vi dicevo che sembra un pezzo di campagna circondato dalla città è questo che veramente adesso è uno spazio pubblico dove anche solo vanno i bambini a giocare se non so dovevi andare a Milano a un certo punto a passare un pomeriggio ti siedi lì c'è il wifi libero lavori è un po' metà tra uno spazio di co-working c'è un ristorante ci sono insomma degli spazi comuni una nuova tipologia di spazio urbano ebbene questa cascina aveva fatto un bando per assegnare i suoi spazi ai cittadini a quei cittadini che avessero dei progetti che fossero diciamo in direzione della loro missione di partecipazione territoriale e io quindi presento questo progetto ma anche autonomamente senza il Politecnico che appunto era l'istituzione dove facevo il dottorato con questa idea di fare questa sorta di agenzia di servizi per la città insieme ai cittadini che già il fatto che loro avessero capito l'idea che avevo in mente mi dicessero sì ti diamo una stanza bene cosa è successo che io da febbraio 2013 a luglio 2013 ho incontrato un gruppo di 30 cittadini ogni giovedì per due ore adesso che torno indietro ci penso una follia perché è stato un programma così intensivo che veramente alla fine ero esausa perché l'ho fatto da sola con una tesista che mi aiutava per le foto eccetera eccetera prima di trovare questi 30 cittadini io ho passato un anno in quel quartiere e questo è molto importante a parlare con associazioni di quartiere a parlare con i gruppi genitori a parlare con anche piccoli negozi locali il ferramenta a cercare di stare sul territorio e di capire se era pronto o no perché ho scelto questo quartiere questo ve ne parlo dopo si era attivato un progetto di ricerca che si chiama Nutrire Milano che aveva l'obiettivo di creare dei servizi a filiera corta tra la campagna e la città e la zona 4 confina con il parco agricolo sud di Milano quindi era il quartiere che per natura sua doveva essere quello più servito da questo parco agricolo e quindi avevamo incominciato un po' a fare delle interviste ai cittadini su questi temi e da lì si era creato questo legame e io avevo visto che quello era un quartiere dove c'era un forte attivismo con un passato un po' popolare ci sono delle case popolari ma ci sono anche un po' di... cioè insomma le case sociali sono mischiate questa cosa non avviene quasi più nelle grandi città dove si stanno creando dei ghetti invece la zona 4 rimane ancora appunto un luogo abbastanza così molteplice e da questi incontri ho trovato appunto queste persone che erano disponibili cioè mi hanno dato il loro tempo assolutamente volontari per fare questo programma adesso vi dico di cosa si tratta innanzitutto parlando con loro sono emesse quattro ore di servizi perché quando si parla di servizi tu devi sempre dare il campo applicativo se no stai parlando di niente servizi alimentari e questo ve l'ho detto perché c'era il progetto Nutrile Milano perché quella zona confina col parco agricolo sud e proprio di loro sono diciamo avevano un mercato molto importante che si chiama il mercato della terra questo mercato gli è stato tolto perché era un parco pubblico non si poteva fare dopo che c'era già da due anni i cittadini hanno fatto una newsletter dove hanno fatto una petizione insomma erano persone pronte a collaborare in un certo senso perché poi ci sono sempre i pionieri che collaborano e gli altri che no l'altra area che abbiamo scelto era servizi di scambio oggetti e competenze un po' sui modelli di cui abbiamo parlato prima no? neighbor goods o agent anything quello che vi ho fatto vedere prima servizi culturali intesi più che altro come turismo a chilometro zero cioè la zona 4 è un'area che non è molto turistica a Milano non è che ci vai e lì i cittadini dicevano cavolo fra poco c'è Expo come riusciamo a portare dei turisti in questa zona facendo vedere delle cose che qua ci sono e quindi è quella un'area che loro mi hanno subito segnalato come un'area di lavoro la cosa poteva essere l'altra area in Italia servizi legali e burocratici cioè siamo oppressi da processi burocratici lunghi e faticosi mi hanno segnalato quest'area in modo da cominciare a lavorarci non solo all'inizio del progetto ho cercato di coinvolgere come vi dicevo un po' di attori locali un ristorante che c'era lì un parettiere la banca del tempo locale sapete cos'è la banca del tempo? perfetto il comitato attivo di Pisapia che c'erano comunque dei comitati che erano di persone attive coinvolti anche se appunto è un processo totalmente laico non era politicizzato però era aperto a chiunque e queste persone erano tra le più attive e soprattutto ho avuto il patrocino del Consiglio di Zona sin dall'inizio solo il patrocino non l'ho mai visti li ho visti dopo le istituzioni arrivano sempre dopo per lo meno in Italia a meno che non siano particolarmente illuminate come in Puglia che mi sembra che comunque il vostro programma di politica giovanili sia invidiato dal resto d'Italia e ogni settimana io la no non è una lusinga siccome la seconda volta che vengo in Puglia ho avuto modo di capire il programma di Bollenti Spiriti sono rimasta molto colpita vi dicevo ogni settimana io lanciavo una sfida ho fatto una campagna di comunicazione sono una designer gli strumenti ce l'ho potevo fare tutto quindi iniziavo con sei pronto a iniziare a progettare la tua vita quotidiana come immagino la rete alimentare di quartiere ed era una specie di campagna sia digitale che locale da una parte online e social network postavo sempre il flyer dall'altra sono andata a volantinare come alle medie e faccio un dottorato ma va bene nei punti chiave nelle portinerie a Milano la portineria è un punto di comunicazione molto importante a Cascina con Cagna stessa che è un posto appunto uno snodo quindi ho cercato un po' di fare una campagna di comunicazione assolutamente low cost mi sono disegnata il sito non ci vuole niente oggi a disegnare un sito che è questo cittadini.it c'è ancora oggi c'è il report di ogni incontro molto dettagliato sia in italiano che in inglese e si possono scaricare tutti gli strumenti che ho usato quindi logica assolutamente aperta gli open data di cui vi parlavo prima le cose che faccio non sono chiuse in quella stanza ma le potete vedere io ho incominciato questi incontri del giovedì per ogni tema che vi ho mostrato prima ho fatto tre incontri una prima sessione che l'ho chiamata la sessione ispirativa dove di fatto discutevamo delle buone pratiche esistenti nel resto del mondo cioè parlavamo di casi chi è che fa già dei servizi a filiera corta molto interessanti chi è che ha fatto dei servizi di turismo a chilometro zero che sono interessanti quindi abbiamo semplicemente analizzato insieme quello che c'era già e lì ho scoperto cittadini che facevano ricerca da soli conoscevano segnalavano cioè è stato veramente la sessione ispirativa è stata una delle cose più interessanti seconda sessione era una sorta di sessione generativa una specie di brainstorming collettivo dove si prendevano gli elementi che avevamo selezionato dalla prima sessione le cose che ci piacevano dei casi studio li mischiavamo con le idee che ci venivano in questa sessione e si finiva con una specie di idea di servizio un semilavorato terza sessione l'ho chiamata la sessione di prototipazione io arrivavo che avevo già un po' elaborato quel servizio molto spesso erano dei prototipi fisici erano delle mappe e cercavamo di prendere delle decisioni di applicare quel servizio alla realtà del quartiere e lì c'era sempre il cittadino che diceva ah sai che spazio possiamo usare c'è l'ex mercato che disusa si può usare quello ah sai chi possiamo coinvolgere il ferramenta magari ci dici di sì cioè i cittadini portavano le loro competenze sul territorio e questo è stato l'asset che un po' ha permesso a alcuni di questi servizi di nascere e svilupparsi ci abbiamo cercato di capire io non sapevo niente della zona 4 cioè non sapevo niente l'ho studiata da buona ricercatrice ho passato un anno quasi a fare etnografia sociale ma sono sarda sono arrivata a Milano a 18 anni non è è diverso non essere del territorio però anche agire da esterno devo dire ha avuto le sue i suoi dati positivi e qua vi faccio vedere un po' di immagini delle sessioni dove forse si capisce perché sono una designer dove di fatto io usavo degli strumenti cioè cercavo di visualizzare questi sono tutti i casi studi di cui vi parlavo prima dove sotto scrivevamo le cose cosa ci piaceva cosa non ci piaceva le mappe dei servizi le decisioni che prendevamo erano molto specifiche quindi io elaboravo tantissimi strumenti che chiamavo oggetti di conversazione questi a mia tesi dottorato li ho classificati uno a uno queste sono cose chiaramente da molto tecniche da design dei servizi però c'erano delle carte di idee nelle sessioni ispirative ho pensato se non ci sono idee io gli faccio un mazzo di carte con piccole suggestioni che magari ci possono aiutare che categorie di prodotti ci scambiamo cosa facciamo quali sono gli attori che coinvolgiamo cose semplici via via alla fine queste mappe che erano appesi alle pareti si popolavano sempre di più quindi per me era un lavoro enorme perché poi tornavo a casa cercavo di tradurre tutto quello che avevamo scritto di non dimenticarmi le cose e di riportarle in maniera più o meno fedele alla sessione successiva perché poi invece in realtà li elaboravo sempre e lì appunto c'è in parte la formazione del progettista a volte facendo proprio dei prodotti fisici cioè se tu dai alle persone quello era quasi un gioco da tavolo però spostavano mettevano devi creare dei sistemi di presa di decisione sostanzialmente e agevolarli il più possibile in realtà questi strumenti esistono ci sono molti si chiamano toolkit di service design ditemi quale avete usato e li ha collado con il carico di WeShare ok che è uno degli ultimi e non è proprio un toolkit di design dei servizi esatto ce ne sono alcuni che invece ci sono da anni non lo so non lo so ho visto il programma ho cercato di informarmi di chi veniva oltre me no ce ne sono tantissimi uno dei più famosi è il toolkit di IDEO che è la principale IDEO è scritto IDEO sì che è la principale agenzia di design e service design nel mondo forse ma c'è il toolkit di Frog Design che è un'altra agenzia sono ahimè tutti in inglese però secondo me siccome è tutto molto visivo si capiscono bisogna studiarseli e soprattutto come dico io avere un toolkit non significa saperlo usare alla fine io non li ho usati ecco ve lo dico subito ho ridisegnato ogni volta quello che mi serviva perché sono toolkit che si possono applicare in generale ma l'applicazione particolare è sempre diversa c'è sempre bisogno di aggiustamenti c'è sempre bisogno di capire il contesto c'è sempre bisogno di capire il tempo che hai a disposizione come reagiranno le persone sbaglio un sacco di volte però di fatto è difficile usare un toolkit così com'è dico cosa uso oggi la mappa degli attori no oggi domani uso le carte di suggestione no cioè devi capire ogni volta cosa sarebbe più giusto usare e io molto spesso ho fatto prodotti più fisici che sono quelli che mi sono serviti di più qua avevo fatto un computer finto con le schermate di carta che entravano e lì anche anziani mi scrivevano no ma qua non funziona cioè sulla carta proprio abbiamo cercato di agevolare l'interazione c'era la mappa la mappa del quartiere che si popolava continuamente di possibilità lo spazio parlava la mappa di quartiere era sempre appesa in questa stanza e devo dire che alla fine dei cinque mesi era diventata una specie di mappa delle opportunità perché hanno segnalato tantissimo e hanno messo in condivisione cosa si poteva fare in quel quartiere vabbè qua continuate a vedere un po' di strumenti cose eccetera li ho classificati in tre tipologie che poi non li ho mai tradotti in italiano quindi degli strumenti ispirativi che mi servivano un po' appunto per la prima sessione quindi tutte le schede sulle buone pratiche le carte di suggestione a volte facevo vedere dei video delle video storie che un po' aiutavano a stimolare l'immaginazione poi degli strumenti che servivano invece per contestualizzare per mettere a posto l'idea quali sempre sono le mappe le mappe del sistema oggi usiamo uno strumento questo pomeriggio che si chiama l'interaction storyboard lo usate quindi capirete cos'è ed è uno strumento che serve per capire le fasi del servizio fase 1 contatto fase 2 mi scrivo fase 3 uso però capire lo srotolamento del servizio dalla fase 1 alla fase finale in cui valuti il servizio è la chiave del design servizi in inglese si chiama customer journey map anche cioè il viaggio del consumatore all'interno del servizio se tu hai chiaro quello hai già messo la prima base e poi vi dicevo strumenti di implementazione che sono quelli che ci servivano appunto sono i prototipi fisici le mappe che servivano appunto per applicare il servizio alla rete locale qua è una mappa di zona 4 dove abbiamo usato tutti i percorsi di turismo locale in bicicletta a piedi eccetera eccetera il valore non è tanto nell'idea che sono venute fuori se posso dire che sono idee e questo ve lo dico anche in generale quasi ma l'idea è geniale perché poi esiste quasi sempre tutto ma è veramente in questo caso sia il processo il valore che è stato veramente condiviso e poi l'applicazione territoriale quali vedete più da vicino proprio questa era una una mappa che avevo fatto per la biblioteca degli oggetti che era questo servizio appunto per scambiarsi oggetti ed è proprio uno scaffale avevo fatto dove in verticale ho messo la tipologia di oggetti in base alla frequenza quindi i prodotti usati ogni tanto i prodotti dei bambini che si usano una sola volta nella vita cioè l'uso e in orizzontale ho messo la tipologia di transazione prestito noleggio regalo e quindi i cittadini mi dicevano guarda cosa sono disposta a regalarlo non mi interessa abbiamo classificato proprio tutti gli oggetti quindi quando mi dicevo che siamo andati nei dettagli siamo andati nei dettagli e poi abbiamo anche cercato di fare delle mappe degli attori allora la biblioteca degli oggetti la possiamo fare in parte in cascina e cuccagna c'è bisogno di una piattaforma c'è bisogno degli utenti gli utenti come possono essere prestatori possono essere delle staffette possono essere dei riceventi cosa hanno in cambio gratitudine reputazione denaro cioè abbiamo cercato di capire tutto chi è che può partecipare il comune di Milano il consiglio di zona oppure chi è che può collaborare e poi in realtà adesso qua avevo appiccicato moltissimi dei commenti ma ce ne erano molti di più perché poi anche poi digitalizzare tutto è stato un altro pezzo di lavoro non indifferente oppure qua ne vedete un'altra che è molto simile a quegli srotolamenti del servizio che vi dicevo della banca del tempo fase 1 setting del servizio come nasce il servizio con quali canali lo contatto come si partecipa come funziona qual è l'offerta cosa offre offre tempo libero offre competenze offerta primaria offerta secondaria cioè strutturare l'idea in questo senso significa fare design dei servizi il più possibile e soprattutto testarlo poi questa è l'altra cosa più importante cioè fare dei prototipi di un servizio apri una piattaforma anche solo per un mese e sta tanto come test e tenti di capire cosa succede in quel mese avverti anche le persone cioè fai un prototipo scoperto si chiama e tenti di capire com'è l'uso i prototipi per me sono la cosa più importante perché siccome il design dei servizi non è una scienza esatta ma è una cosa che si si modella continuamente come il designer che disegna ve lo dico chiaramente una sedia continua a limare quella linea ugualmente un servizio continui a cambiare un dettaglio e tenti di capire qual è la maniera per farlo funzionare meglio vabbè questo era un altro servizio ancora che ci poi ve li racconto qua vedete delle immagini che mi sono servite per realizzare altri momenti a parte le sessioni del giovedì che già duravano due ore dalle 7 alle 9 per molte persone era invece che andare in palestra io vado qui quindi è stato anche interessante che da una parte avevo un gruppo di cittadini molto attivi cioè i veri eroi sono stati sette che ancora oggi mi vedo con loro si è creato un rapporto erano proprio il carro trainante e poi tutti gli altri erano classificabili in interessati che venivano magari alle sessioni di un tema che gli interessava cioè ho avuto delle persone che sono venute solo ai servizi alimentari perché erano degli esaltati sul cibo e poi dei curiosi che magari passavano di lì in cascina con cagna erano venuti a fare l'aperitivo vabbè rimango quindi era anche un po' particolare perché da una parte dovevi creare delle sessioni che fossero anche non tutte che seguissero questo filo logico ma anche fruibili istantaneamente questo era un altro dei problemi che ho avuto di rendere interessanti anche per chi veniva una volta anche se di base io ho preferito comunque avere ce l'avevo un gruppo di persone che erano più di sette che sono venute più volte 15 persone più o meno e vi dicevo ho fatto dei momenti invece in cui ho fatto delle esposizioni al pubblico cioè non è che tutto accadeva nella segreta stanza della cascina cuccagna nel sito per chi ci andava nella pagina facebook bisognava far vedere quello che stava succedendo perché la comunità deve sapere e questa cosa l'ho fatta con un po' di mostre questa vedete delle immagini durante il salone del mobile a Milano molto interessante il design non è solo mobili ma è anche servizi quindi mi hanno chiamato a far parte di una rassegna ed è stato interessante che allora mi sono creata questo allestimento ancora una volta fatto con due patate e una carota perché l'immagino di questo progetto è veramente ridicolo forse ogni sessione costata 50 euro la stampa dei materiali e basta non c'era altro avevo fatto una sorta di brainstorming di quartiere molto semplice durante il salone del mobile cosa vorrei nel mio quartiere è venuto fuori di tutto quindi qua l'ho usato come una consultazione analogica non digitale quindi non l'ho fatta con la piattaforma in crowdsourcing l'ho fatta lì sono venute fuori un po' di cose è stato interessante sono venute un po' di persone e per me è stato un momento di condivisione molto molto importante vedete varie immagini fin quando non ci ha invitato anche la triennale di Milano che è il principale museo di design per me anche poi il riconoscimento nel mondo del design è importante perché veniamo sempre visti come degli animali strani e quindi qui abbiamo fatto alla triennale di Milano una sessione sui servizi culturali nel Tempio della Cultura giustamente abbiamo fatto una sessione aperta a tutti i cittadini è stato un disastro ve lo dico subito perché mi hanno dato la triennale di pomeriggio ora quale cittadino possibile può venire di pomeriggio alle 2 alle 6? nessuno perché stanno lavorando soprattutto a Milano quindi cosa ho fatto? ho chiamato gli studenti del Politecnico ho detto ok venite facciamo insieme un workshop e alle 6 facciamo la presentazione ai cittadini e cerchiamo di raccogliere dei feedback però è stato interessante comunque per me fare questo tipo di operazione perché l'ho presa come un'opportunità pur essendo disastroso l'orario e da lì è venuto fuori qualcosa perché avevo fatto questo grande tavolo di lavoro e sono venuti fuori delle buone idee di servizi culturali che poi i cittadini sono venuti e hanno detto mi piace non mi piace punto però se ne è parlato anche delle occasioni che possono sembrare non delle opportunità in realtà poi sono diventate comunque positive a livello di comunicazione a livello di disseminazione di quello che stai facendo perché poi alcuni cittadini dicono qua sta accadendo qualcosa e lì ti riporti dietro diventa aspirazionale partecipare allora cosa sta succedendo qua? vengo a vedere cosa c'è e questo è importante che tu crei un meccanismo aspirazionale voglio partecipare anch'io il design questo riesce a farlo secondo me questa cosa è stata diversa dai processi partecipativi che fanno il terzo settore le cooperative o tradizionalmente i sociologi perché era molto propositivo era anche un'attività divertente se volete cioè io cercavo di mediare un po' tra i miei risultati che mi servivano a livello di ricerca e anche fare delle attività divertenti perché le persone in fondo venivano gratis a darmi due ore del loro tempo e questo doveva essere anche un'attività un po' a metà e quindi insomma secondo me il fatto di avere tutti quegli strumenti le foto le avete viste di facilitare la partecipazione secondo me è stato è stato un driver molto importante cioè per me io sono stata comunque felice di aver portato 30 persone ogni giovedì punto a prescindere poi da quello che è successo dopo che vi racconto beh presentazione finale al comune di Milano il comune è arrivato alla fine mi dicevano tutto sommato devo spezzare una lancia a favore del comune perché ho scritto solo un'email dicendo sono le cercatrici del Politecnico di Milano abbiamo fatto questo volete venire assessorato le politiche sociali sì veniamo è venuto l'assessore Maiorino già stato interessante e il suo staff dove abbiamo è lì la fatica di nuovo organizziamo un evento invitiamo tutti mostriamo tutti i servizi che abbiamo progettato facciamo una presentazione facciamo un aperitivo eccetera cosa ti rispondono sostanzialmente non abbiamo soldi e questo già lo sai però abbiamo spazi che vi possiamo dare quindi boh la biblioteca degli oggetti forse la potete fare in questo spazio abbiamo delle defiscalizzazioni delle facilitazioni vi possiamo facilitare ad esempio come prenotare uno spazio pubblico per un evento piccole cose che comunque vi possiamo offrire che è comunque almeno diciamo un ascolto aperto e questa cosa la crei soltanto nel momento in cui crei un'evidenza molto forte no? alla fine sono venuti fuori sei servizi e qua ve li faccio vedere nelle varie aree la biblioteca degli oggetti che vi dicevo è una specie di spazio fisico e virtuale per scambiare soggetti nel quartiere è come in neighborhood soltanto che è anche fisico gli italiani hanno anche un po' bisogno di fisicità la banca del tempo potenziata che in questo caso non ci siamo alimentati la ruota c'era una banca del tempo locale i loro partecipanti sono venuti a tutte le sessioni su questo tema per migliorare il loro servizio perché era un parcheggio per pensionati sostanzialmente e questo è il rischio della banca del tempo e in realtà il fatto che Cittadini Creativi ha avuto una partecipazione molto valiegata c'erano anche molti giovani ma avevo anche un settantenne avevo 50 anni abbiamo cercato di crearla un pochino più positiva in questo caso il processo è stato contrario alla biblioteca degli oggetti cioè abbiamo creato anche una piattaforma digitale perché la banca del tempo si stava già in maniera non digitale cioè si telefonavano questi pensionati poi ci sono in zona 4 che è un servizio di turismo a chilometro zero quindi una sorta di sistema in cui i cittadini adottano un luogo lo spiegano e propongano un tour alternativo lo sportello del cittadino che è un servizio di pronto soccorso burocratico e di orientamento e adesso poi ve li racconto uno a uno la rete di distribuzione locale che è un servizio di logistica partecipata tra il parco agricolo sud e il quartiere che però è fallito e facebook che è una rete alimentare che mette insieme vari partecipanti residenti del quartiere con ristoranti piccoli negozi c'è tutte le persone che hanno a che fare col cibo vi li racconto e poi facciamo una pausa come vi dicevo li ho presentati al comune di Milano usando dei veri e propri mock-up fisici che sono quelli che abbiamo usati durante le sessioni di prototipazione poi vi faccio vedere solo le immagini infatti con poco sono andata al laboratorio prototipi del Politecnico ho visto cosa avanzava dei vecchi modelli sono andata a rovistare la spazzatura li ho un po' rivestiti e un po' mi ha aiutato perché la banca del tempo poi abbiamo fatto un test in questo condominio in piazza grande abbiamo fatto un po' di cose e quindi qua semplicemente abbiamo cercato di visualizzare cosa si potevano scambiare le persone abbiamo fatto una bacheca che la gente si poteva portare via a prendere veramente un plotter un a zero arrotolato se volevi te lo portavi nel tuo palazzo e lo prendevi è un fatto offro, cerco so fare ho bisogno di ti insegno io punto in carta neanche appunto digitale non è che ci voleva appunto lo sportello cittadino qua abbiamo fatto veramente il modellino d'architetti perché abbiamo trovato un avvocato questa è un'illuminata Rossella Mileo che voleva fare uno sportello legale cioè uno sportello in cui lei dava dei consigli gratuiti una specie su cosa non fare diceva lei perché molto spesso uno inizia che c'è un problema e vuole subito andare in comune vuole subito fare questo vuole fare altro invece molto spesso basta semplicemente direzionare e dire cosa fare cosa non fare e allora da lì ci siamo chiesti abbiamo fatto una serie di sessioni su come progettare uno sportello legale e poi con i cittadini questa cosa è gigantita perché loro dicevano no vogliamo anche lo sportello fiscale lo sportello energetico lo sportello condominio lo sportello architetto ne sono nati un sacco poi ve lo faccio vedere perché sta continuando insomma è forse il servizio che ha avuto più successo poi facebook vi dicevo abbiamo disegnato proprio un sito web che non è attivo ahimè perché adesso è molto complesso portarlo avanti è una specie di tripadvisor dei negozi di quartiere diciamo nel senso che ci sono tanti piccoli negozi locali ristoratori e alcuni ristoranti dicevano io sono disponibile a dare in affitto il mio ristorante il giorno di chiusura per far fare le cene alle persone apriti il cielo no? cioè sono creato questa rete che serviva semplicemente per segnalare delle opportunità o uno che voleva organizzare un aperitivo domestico a casa sua lo metteva su questa rete o ognuno di questi servizi quelli che stanno andando avanti stanno andando avanti perché hanno trovato un eroe che li sta portando avanti lo sportello del cittadino l'avvocato facebook l'unica straniera che è venuta un olandese che veniva che aveva un blog sul cibo non a caso è venuta per questo la biblioteca degli oggetti un signore di 55 anni che ha partecipato a un bando comunale per avere in uso frutto un'area per fare la biblioteca degli oggetti l'ha perso ma ha controllato chi l'ha vinto e si stanno mettendo d'accordo per fare una specie di corner per scambiarsi gli oggetti quindi è anche interessante cosa accade vabbè qua vedete quello che è successo questa cosa è diventato lo sportello del cittadino la cascina cucania l'ha preso cioè ha deciso di adottarlo come servizio permanente l'abbiamo lanciato a settembre abbiamo pagato un grafico che bello non l'ho fatto io questa volta per disegnare tutto quanto perché io non sono una designer grafica che io sape utilizzare gli strumenti fa parte del mio alfabeto come so scrivere ma non sono una designer grafica quindi abbiamo chiamato uno che ha fatto lo sportello fiscale è nato lo sportello legale civile lo sportello legale penale lo sportello l'architetto perché è uno che deve andare a fare l'accatastro lo sportello l'energia lo sportello il condominio ne sono nati tanti patrocino il comune di Milano questa sono fiera dall'inizio ce l'hanno visto gli è piaciuto adesso stanno pensando forse può diventare un servizio pubblico semplicemente accade che una volta alla settimana uno di questi professionisti si rende disponibile quindi abbiamo fatto tutto un sistema per prendere gli appuntamenti un regolamento interno l'allestimento di un ufficio temporaneo perché chiaramente la cascina non può dare una stanza a questi professionisti non può darla sempre quindi c'è sempre questa specie di immobilio che questi si portano dietro col cartello la segnaletica e così funziona questo è un servizio flessibile al basso ma va e sono sempre pieni in particolare l'avvocato e il commercialista hanno sempre molti appuntamenti appuntamenti durano massimo mezz'ora a meno che non siano casi molto delicati per l'avvocato penalista è un po' più diverso però insomma come vi dicevo funziona la biblioteca degli oggetti vi dicevo scusate alcune cose sono sempre in inglese sono dei rifusi c'è questo spazio che è l'ex mercato di una piazza a Milano che è sempre chiuso il comune ha fatto un bando per questo spazio l'ha vinto il panettiere Davide Longoni che vuole fare una specie di mercato dentro e forse riusciranno a fare questa specie di corner dove le persone si possono scambiare gli oggetti perché mentre negli Stati Uniti non è un problema per neighbor goods vado a casa di un tipo a prendere il trapano in Italia c'è stato a dire ma io forse che venga una sconosciuta a casa mia che gli do l'indirizzo prendo il trapano non mi piace preferisco taglielo in un luogo terzo quindi dicevo ma perché lo facciamo in un bar avevo detto all'inizio facciamo il bar e la biblioteca degli oggetti facciamo un corner di scambio e questa era un po' l'idea quindi molto semplice come vi dicevo Facebook qua vedete alcune pagine del sito vuole fare una sinergia con quest'altro progetto che si chiama Distretto Cucagna per creare appunto questa specie di TripAdvisor di quartiere la banca del tempo cioè se non riuscite a pagare uno di cui abbiamo parlato per farsi bisogna la piattaforma che è semplicissima però questa cosa permette magari di far accedere anche dei giovani e non soltanto dei pensionati i pensionati cosa fanno? Vanno qui e qui abbiamo creato anche di cercare nella Cascina Cucagna di creare una specie di ufficetto ma ci vuole sia il punto fisico che il digitale qua c'è la solo il punto fisico e quindi il risultato di cittadini creativi è questa roba semplicissima che però alla fine sta facilitando la partecipazione di più persone e quindi sostanzialmente alla fine mi sono detta sono successe queste cose che sono nati nuovi modelli di servizio un nuovo luogo di progettazione di produzione che era cittadini creativi stesso che era una specie di agenzia per progettare i servizi insieme ma anche per produrli perché poi si cercavano le sinergie con gli attori locali cioè le persone facevano rete è una forma ibrida tra pubblico e privato lo sportello cittadino testimonia questa ibridità completa si risolvono problemi privati però sono cose che interessano anche il pubblico sono nuove forme di welfare ma anche nuove forme di imprenditorialità sociale perché la biblioteca degli oggetti se va avanti diventa una start-up sociale dei cittadini io farei una pausa adesso perché poi vi racconto come l'ho modellizzato come si può rifare si cioè dopo che ho fatto i cittadini creativi conclusione luglio del 2013 io sono partita per sei mesi a New York a fare un periodo di ricerca a New York però ha incominciato un periodo di disseminazione di quello che era successo hanno incominciato appunto a chiedere intervistare cose cosa ha successo i cittadini stessi ne parlavano sono state invitate a un po' di conferenze a Sheritaly da Marta e Manieri la prima edizione di Sheritaly eccetera eccetera e alcuni altri comuni mi hanno chiesto ma se noi volessimo rifarlo cosa dobbiamo fare? cioè io addirittura questa cosa è data un po' oltre le mie previsioni perché io non pensavo cioè io quando ho iniziato ero solo interessata a testare degli strumenti di service design e di coprogettazione avevo un interesse molto metodologico molto disciplinare molto scientifico se volete invece dopo è diventato un progetto di innovazione sociale vero e proprio cioè è diventato un progetto di avviamento di attività all'interno di un'area una sorta di progetto di attivismo civico se volete chiamarlo così e quindi ho detto va bene proviamo a modellizzare questa cosa a capire come si fa poi questo modello l'ho scritto in maniera molto più profondita nella tesi dottorato che metterò a breve online per tutti e in inglese vabbè però la sto correggendo ancora alcuni refusi ma a breve la metterò online per tutti disponibile come vi dicevo nell'epoca degli open data non ha senso tenersi a tesi dottorato per se stessi dove appunto è tutto molto più approfondito oggi è un po' la volgarizzazione ma penso sia interessante passo zero creare un gruppo di lavoro gruppo minimo come è successo a cittadini creativi eravamo in due un service designer e un assistente che era un designer fotografo nel mio caso era una tesista che era interessata a questi temi che mi ha aiutato a fare tutte le foto perché chiaramente non è possibile che io parlassi gestissi la sessione e mi facessi le foto da sola e mi ha aiutato anche con alcuni strumenti perché comunque lei essendo una designer mi ha aiutato a realizzare i materiali però in un mondo ideale sarebbe meglio avere non solo un service designer ma un vero e proprio assistente documentatorio oggi ce l'avete un fotografo avete lo staff che fa lo streaming un communication designer uno che fa proprio la grafica che vi fa il sito web che vi fa la piattaforma cioè dove tutte le mansioni sono distribuite è un ricercatore un esperto in ricerca etnografica proprio perché io a un certo punto dicevo io non ho competenze di etnografia io non sono una sociologa io non sono un'antropologa chi vede un sociologo che vede il mio progetto io vengono i capelli dritti allora non hai rispetto cioè da una parte ci sono tutte dei metodi di ricerca sociale che io ho ignorato e me ne sono resa conto io ho agito lì come un caterpillar da progettista portiamoci a casa le proposte sicuramente magari c'erano delle accortezze di ricerca sociale che appunto non conoscevo ma questo è il passo zero che è un gruppo di lavoro potrebbe essere anche molto più grande in un mondo ideale e poi ci sono dieci passi dei quali io ho sperimentato fino a qua più o meno sono arrivata a coprodurre dei servizi ma più o meno mi sono fermata qua come avete visto individuare la comunità selezionare gli argomenti cioè i temi su cui ricercare coinvolgere gli stakeholder cioè gli attori locali che potete coinvolgere sviluppare un programma questo vi dirò perché è molto importante farlo conoscere condividerlo a tutti coprogettare e questo è forse il passo in cui il service designer un designer la competenza serve negli altri si possono anche quasi fare senza un designer prototipare cioè quei servizi che hai coprogettato li prototipi coprodurre se ce la fai sono riuscita a coprodurre la sportella del cittadino un po' facebook un po' la biblioteca degli oggetti ma siamo ancora lì cogestire qui viene il dramma cioè quando tu hai messo insieme tutti questi servizi definisci ruoli e regole quello che si chiama in inglese il modello di governance e lì è un modello è implementare e stabilire delle sinergie cioè l'eredità di quel servizio adesso li faccio uno a uno e li commento prego no volevo dire una cosa quindi per chi per esempio si approccia a creare un servizio una rete di servizi un processo di coprogettazione una rete di servizi benissimo diciamo che deve tenere presente tutti questi elementi che dovrebbero essere diciamo la base per la progettazione possiamo considerarlo quindi proprio l'insieme delle regole non l'insieme delle regole quelli che sono gli elementi fondamentali per poter prego avviarci insomma in questo tipo di progetto quindi lei consiglia di seguire più o meno sempre questo non lo consiglio nel senso sono dei passi no a me non serve sono dei passi in cui io racconto un processo questi passi non sono cronologici per forza alcuni sono avvenuti simultaneamente altri sono stati ripetuti quindi sono iterativi altri sono circolari continuano a ripetersi sempre io quelli ho semplificati ve li ho messi uno dopo l'altro e sembrano quasi in progressione e in un mondo ideale sono in progressione ma nel mondo reale non lo sono stati non sono delle regole sono delle avvertenze sono delle istruzioni di chi l'ha già fatto e che se lo rifacesse oggi lo farebbe completamente diverso perché mi sono resa conto che ho esagerato era molto intensivo alcune cose si potevano limare cioè ogni volta che fai una cosa chiaramente impari e se la potessi rifare cambieresti faresti delle cose diverse e quindi qua semplicemente ho cercato di mettere a sistema quello che avevo imparato di questi processi in realtà nel mondo della ricerca è pieno c'è il social innovation journey ce ne sono tanti sono tutti in inglese basta prendersi il libro bianco dell'innovazione sociale che questo è tradotto in italiano se voi scrivete su google il libro bianco dell'innovazione sociale vi viene descritto il processo di come si crea l'innovazione sociale perché in fondo questo è anche un processo di come creare l'innovazione sociale abbiamo anche materiale in inglese che cosa possiamo beh in inglese tutto quello che ha fatto Geoff Mulgan che è un po' quello che si è inventato il concetto di innovazione sociale cioè sia tutto Geoff con due F e Mulgan con la G con la G con la G normale di gatto beh lui fa parte di Young Foundation che è stata la prima associazione rete in Inghilterra che ha cominciato a parlare di innovazione sociale in realtà poi il libro bianco di innovazione sociale che in inglese è The Open Book for Social Innovation è stato tradotto da Alex Giordano forse lo conoscete lui ha fatto anche un altro libro che si chiama Society Reloaded che parla di processi di innovazione sociale ma in realtà poi c'è una letteratura molto vasta Ezio Manzini il mio relatore di tesi di laurea se andate su Desis il sito è www.desis-network.org lì trovate tantissimi materiali Desis è la rete che vi dicevo di università che si occupano di design per l'innovazione sociale per la sostenibilità e lì c'è tantissimo materiale diviso per argomenti per cluster quindi lì è interessante c'è un cluster che si chiama Public and Collaborative cioè che parla di processi pubblici e collaborativi dove trovate molte cose c'è una letteratura molto viva su questi argomenti ultimamente perché tutti stiamo sperimentando tutti stiamo scrivendo tutti ci stiamo confrontando comunità di innovatori fatte da designer sociologi economisti esperti di modelli di business moltissimo settore pubblico vi dicevo soprattutto in Inghilterra quasi scandinavi e Stati Uniti ma anche in Italia qualcosa si muove quindi insomma c'è tanto io vi propongo uno dalla mia insomma da una ricercatrice che è appena diventata dottorata però comunque è una la mia prima tesi dottorato in design su questi argomenti quindi c'è qualcosa e poi soprattutto il valore secondo me è il fatto che l'ho sperimentato davvero e questo sì ma come vi dicevo questi ultimi passi sono i passi che io penso che bisogna fare beh vi dicevo individuare la comunità è molto importante incontrarla proprio questa comunità ci può essere un percorso lungo o un percorso breve io ho fatto il percorso lungo quello che vi raccontavo è stato un anno in questo quartiere a parlare con le persone a individuare a capire eccetera percorso breve come molti comuni mi hanno segnalato mi dicevano io ce l'ho già il quartiere su cui voglio lavorare ho già individuato delle associazioni delle persone che secondo me potrebbero essere disponibili vai a lavorare lì non l'ho ancora fatto sono ancora lì che valuto è un'altra possibilità è molto importante però che il pubblico ti dia il mandato per lavorare su quella comunità è un riconoscimento perché io lì sono andata con dal basso da ricercatrice che vuole sperimentare degli strumenti ma chi cioè da dove veniva il mio mandato una volta mi avevano chiesto ma scusami il tuo cliente chi era chi è che te l'ha dato il brief mi diceva ma veramente nessuno ho detto era perché io volevo sperimentare delle tecniche delle metodologie e via dicendo però secondo me è molto opportuno che l'incontro con la comunità avvenga in maniera molto più codificata se riesci perché hai un'entrata che è ufficializzata che è sancita da un atto pubblico questo secondo me dovrebbe essere importante dimmi scusami per servizi facciamo l'esempio di BlaBlaCar giusto perché così tutti ci allineiamo dove la comunità cioè quando sono nati quelli di BlaBlaCar avevano l'obiettivo di andare a trovare una figura che è l'autista che vuole condividere la macchina che effettivamente non sai dov'è in questo caso come si individua la comunità in questo caso è un processo difficile nel senso che tu dovresti veramente andare a fare un tour direi un BlaBlaTour nei territori che vuoi coprire e andare a capire già con chi puoi parlare io andrei inizialmente dalle associazioni locali che ti servono un po' più attive delle cooperative sociali in genere lì trovi un po' di sensibilità gruppi rioni di condominio sono i posti migliori dove riesci a infiltrarti perché sicuramente sono i luoghi più trasversali dove trovi tante persone perché al vino di condominio ci vanno tutti io me ne sono fatti un po' di vino di condominio quello è proprio super territoriale però infatti ci sono delle figure nei servizi collaborativi che si chiamano i launcher i community launcher cioè gli attivatori di comunità che sono quelli che iniziano un lavoro su un territorio e poi ci sono questi delegati che sono rappresentanti in varie aree poi Airbnb fai l'esempio in cui si è strutturato tantissimo è diventato quasi una multinazionale cioè Airbnb Italia Airbnb Germania eccetera eccetera magari senza arrivare a quel livello puoi cominciare a creare tanti community launcher però al inizio questo è un processo lungo è forse uno dei più difficili ma se lo fai bene poi hai la massa critica e questo è importante poi nel mio caso era più semplice perché io volevo sperimentare volevo raccogliere delle vertenze volevo raccogliere dei bisogni ma anche dei desideri anche delle proposte quindi non avevo bisogno di una massa critica grossa anzi vi dirò 30 sono troppi da gestire ho capito proprio che anche il numero giusto di persone che mi possono aiutare o perlomeno 30 per una sola persona sono troppi e quanti non hai? beh più o meno 15 massimo se riusciti cioè il numero che da sola riuscivo a gestire selezionare gli argomenti questa è stata la seconda cosa molto importante cioè individuare gli ambiti su cui lavorare cioè quali sono i temi che emergono nel quartiere le vertenze c'è un autore che è un filosofo pragmatista americano di Way che dice un gruppo si attiva sempre di fronte a un conflitto cioè è molto facile creare un gruppo di fronte a un problema lavoro nel design e trasformare quel problema in una proposta e lì c'è uno scatto molto molto importante però a volte è molto anche importante lavorare sulle proposte non soltanto sui problemi perché le sessioni di co-design a volte erano a rischio di diventare anche quelli dei lamentatori e no perché il comune mi ha detto questo a quel punto lì diventavo un po' cioè cercavo di guidare il processo anche in maniera con una mano un po' forte e dicevo va bene però siamo qua per trovare delle soluzioni e quindi è molto importante capire quali sono i temi locali capire quali sono le vertenze che le persone ti portano eventualmente portarne altre sicuramente lavorare sull'esistente è più facile magari a volte ti offrono un servizio da migliorare a volte ti dicono guarda che c'è questa associazione non funziona molto bene cosa possiamo fare e l'idea da designare i servizi di cui trasformavo questi problemi in opportunità di servizio perché a me questo interessava ma perché i servizi poi cosa sono sono intangibili avete visto sono delle attività è molto spesso è molto facile che tu fai uno studio di un insieme di passi passo 1 contatto passo 2 mi scrivo passo 3 eccetera è molto spesso la più facile creare questo sistema però non sempre è così a volte viene fuori un sito web a volte viene fuori un'altra cosa a volte viene fuori un evento viene fuori che facciamo la festa di quartiere va bene anche quello inizialmente cioè accogli molti tipi di proposte cerchi di strutturarle il più possibile coinvolgere gli stakeholder in inglese gli attori locali cioè ci sono degli attori locali che possiamo coinvolgere quello che vi dicevo prima io ho parlato con i comitati di zona 4 ho parlato con il ristorante che c'era in cascina cucagna che non era appunto non doveva per forza partecipare al progetto insomma chi vuole partecipare chi vuole venire a qualche sessione vuoi venire a questa sessione che è molto interessante sei un panettiere è sul cibo vuoi venire vai provi al limite dici no non hai niente da perdere però creare quel sistema è molto importante agganciare le istituzioni è importantissimo quanto più riesci a coinvolgere dall'inizio secondo me meglio è cioè in un mondo ideale è il comune che ti dà il mandato per fare questo se no puoi anche incominciare come ho fatto io a proporlo ho ricevuto il patrocinio del consiglio di zona che questa cosa dava anche sicurezza alle persone che venivano è un'attività socialmente utile è un'attività pubblica è un'attività per il bene comune trovare un luogo simbolo uno spazio accogliente connesso scritto il fatto che questa cosa venisse in cascina cuccagna è stato molto importante è un posto piacevole dove le persone ci vengono volentieri le persone vengono come vi dicevo vi ho fatto vedere le foto anche a passare un pomeriggio nel giardino anche non invitavo le persone in un posto spiacevole in un posto appunto le palestre a volte spesso poi ognuno ha quello che ama deve tentare di renderlo il più possibile piacevole e accogliente connesso intendo dire che la cascina era un punto di di snodo cioè ci passavano tante persone quindi io approfittavo dei flussi delle persone che transitavano in questo posto che vivono per altri motivi vivono a mangiare al ristorante vivono a fare gli aperitivi poi a Milano quel posto rischiava di diventare lo rischia ancora siccome come vi dicevo hanno tanti debiti questa non è una cosa appunto sconosciuta lo sanno tutti devono perché hanno contatto con la ristrutturazione devono alternare attività di business e attività sociali c'è un ristorante affittano lo spazio per eventi quindi accadono molte cose ma non deve diventare un eventificio come un locale milanese diciamo deve diventare quello che è nella sua natura un posto di partecipazione territoriale e quindi anche mischiare queste attività io un po' mi valevo di prendere quei cittadini che vivono per l'aperitivo quindi un po' li tiravo dentro e avere lavorare su un posto che è già connesso a volte aiuta cioè dove c'è un flusso di passaggi ma per caso questo posto è sul naviglio della Martesana no è in Porta Romana però Milano ha 66 cascine no perché c'è un posto simile no scusate no perché anche a Milano c'è un posto simile sul naviglio della Martesana che sarebbe quello un po' dietro sì lo conosco pensavo fosse quello che quale è questa cascina? non te lo ricordi è praticamente sulla zona finale di via Melchior e Gioia eh non lo so comunque ci sono va bene pensavo fosse quello no non è quello comunque Milano ha 66 cascine grazie 16 delle quali in totale è stato di abbandono per cui è stato fatto un bando per riutilizzarle e riempirle con dei contenuti e delle attività interessanti è un problema come voi sapete no? cioè con delle attività che poi diventino anche sostenibile dal punto di vista economico perché di questo parliamo per questo che è importante come vi dicevo strutturare bene le attività pensare tutte le fasi idealmente parlare anche con un esperto di modelli di business low profit o comunque imprese sociali che funzionano quindi però questa cosa anche gli spazi di co-working sono degli spazi interessanti che un po' aiutano se tu fai un'operazione di scelta di creativi in uno spazio di co-working già attivi delle persone partire proprio da zero in uno spazio che non è riconosciuto nella comunità è molto difficile perché tu devi anche legittimare quello spazio oltre che legittimare l'attività sviluppare un programma dire subito alle persone cosa fai io ho fatto subito questo calendario di sessioni di co-design poi c'erano state anche delle mostre al pubblico ho detto che per ogni ciclo avevamo fatto tre sessioni cioè le persone devono sapere cosa stanno andando incontro creare quello che vi dicevo prima un meccanismo aspirazionale cioè sarà bello fare questo rendere partecipi di un percorso e soprattutto quella cosa che vi dicevo prima intervallare le sessioni di co-design nei momenti di presentazione pubblica cioè le esposizioni che ho fatto in triennale al salone del mobile cioè io dovevo agganciare anche gli altri perché questo è un classico problema è facile far partecipare chi partecipa sempre o gli attivisti è molto difficile far partecipare chi non partecipa già di suo e quindi questi momenti di disseminazione erano quelli in cui sono riuscita a portarmi a casa a qualche altro cittadino però sono importanti è importante dire cosa sta succedendo al resto della comunità e non farlo nelle segrete stanze co-design co-progettare qui entra in campo la mia esperienza di designer è forse l'unico passo in cui c'è una professionalità molto precisa è quello che vi dicevo devono essere preparate sono efficaci ma devono essere anche un po' leggere e divertenti perché se no è un problema preparare la sessione per me era la cosa più faticosa ci mettevo quasi una settimana a prepararla cioè preparare gli strumenti di capire fare eccetera eccetera ma perché ero da sola sostanzialmente se il team è più forte poi avevo una persona che mi aiutava ma chiaramente essendo junior mi aiutava magari in alcune esecuzioni eccetera però questa è la fase più gravosa perché ogni volta bisogna capire qual è lo strumento giusto qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere cosa potrebbe mancare devi immaginare cosa succede che obiezioni ti potrebbero fare cosa dire ma questa cosa esiste già va benissimo ma tu devi dire guarda abbiamo fatto i casi studi cioè ci sono tutti degli espedienti che questi da una parte essere formata su questo laureata in design dei servizi poi stavo facendo l'autorato di ricerca avrà avuto esperienza in agenzie e studi mi è servito dall'altra però ve lo dico subito tra la prima sessione e l'ultima c'è una differenza nella mia performance enorme nell'ultima ero bravissima la prima avevo anche dei problemi di gestione cioè non riuscivo neanche a far tacere delle persone che parlavano troppo poi a un certo punto ho cominciato basta cioè diventi anche un po' più coercitiva però a volte c'è bisogno perché ci sono sempre gli eghi che si prendono tutto lo spazio e che parlano tantissimo no? non è una sessione psicologica è un limite che è un po' quando lavori con le comunità e quando vuoi fare veramente un processo di collaborazione mi sto parlando un po' di scoperte dell'acqua calda però quando le ho sperimentate e quando le ho scritte poi queste cose ho capito che invece viverle era completamente diverso prototipare questo ve l'ho detto anche qui forse è l'altro passo in cui il service design era importante cioè una volta che abbiamo elaborato l'idea del servizio era importante renderla visibile sia con dei prototipi fisici o simulando l'apertura di una piattaforma per tot giorni e capire cosa succedeva quindi prototipi fisici e digitali li ho usati tutti e due e anche qui beh questa è proprio una base del servizio il servizio è intangibile non esiste se tu non crei dei punti di contatto non esiste e poi prototipi servivano vi dicevo per prendere decisioni anche erano degli oggetti di conversazione comprodurre e qui sono arrivata forse nello sportello del cittadino pensare al servizio veramente in ogni dettaglio che vi dicevo abbiamo un allestimento temporaneo si cerca di capire come farlo funzionare abbiamo fatto un sistema per prendere gli appuntamenti cerchiamo di capire veramente come si coproduce mettiamo insieme delle risorse abbiamo un allestimento condiviso abbiamo una stanza che usano anche altre persone nella coproduzione succedono molti problemi è un passo molto pesante perché se si condividi le risorse anche stabilire le regole dell'uso di quella risorsa è un tema che va subito nel cogestire definire ruoli e regole stabilire regole riguardanti usa accesso proprietà membership qua entri proprio nel modello di governance faccio l'esempio se tu hai uno spazio condiviso nell'uso di uno spazio si creano delle rivalità devi fare una programmazione ci sono poi si è andata molto più in profondità su questo perché la cogestione non si è riuscita a sperimentare la vera e propria veramente però è molto importante perché ho capito che i ruoli devono essere negoziabili e flessibili soprattutto se sono servizi collaborativi dove gli utenti svolgono molti ruoli quindi molto spesso uno può anche cambiare ruolo non è che prende un ruolo e se lo tiene per tutta la vita i capelli si possono cambiare le regole anche possono essere rinegoziate tu le stabilisci all'inizio il regolamento lo sportello del cittadino l'abbiamo fatto l'abbiamo cambiato lo stiamo ancora cambiando però questi sistemi devono essere sufficientemente aperti e sufficientemente precisi da poter essere utilizzati rinegoziati il modello di cogestione secondo me è sicuramente uno dei punti più più complessi perché riguarda la ridistribuzione del potere anche i sistemi di presa decisione anche su questo c'è tanto in Inghilterra si parla tantissimo di partecipatori governance di governance partecipativa sia nelle imprese nelle imprese sociali in un'impresa che è una start up di servizio sia proprio nella pubblica amministrazione questo è un tema qua si apre un tema molto grosso sul ruolo che hanno chi partecipa a un servizio gli impiegati pubblici gli utenti chi prende decisioni eccetera è implementare cioè definire l'eredità e la legittimazione di quel servizio che fine fa? qua io parlo sempre di exit strategy punto numero uno la mia exit strategy quando è che il designer lascia questo processo? per me è stato molto difficile non sono ancora uscita però io non sono un'imprenditrice non voglio diventare un'imprenditrice non voglio fare una start up con i cittadini ho accompagnato questo processo quando è finito cittadini creativi mi dicevo sono partita sei mesi a New York a fare un altro progetto di ricerca mi scrivevano quando torni allora qua non stavo andando avanti niente allora da una parte chiaramente ti configuri un po' come leader dall'altra però questo potere lo vuoi assolutamente condividere e quindi sostanzialmente è stato lasciato agli eroi di cui vi parlavo prima l'avvocato che si è messa con la testa un ariete ha fatto lo sportello del cittadino quindi in quel caso la fortuna è stata trovare delle persone che hanno accolto l'eredità di quel servizio e questo è stato molto importante è legittimarlo cioè se il comune di Milano veramente vuole diventare il fornitore dello sportello del cittadino c'è una legittimazione dall'alto e spesso a volte questa è anche che un'azienda si prende quel servizio va benissimo nel senso non tutti i cittadini vogliono diventare imprenditori non tutti si vogliono costituire in associazione o in un'impresa sociale o in una cooperativa puoi anche portarlo avanti e decidere che Facebook potrebbe essere una cosa interessante per il ristorante della Cascina Cucagna o dai a loro e lo portano avanti però anche questa fase cioè qua l'ho scritto chiaro implementare il servizio significa gestirne la sua eredità e alla comunità di riferimento ed è la gli ultimi due passi che io non ho sperimentato sono però più difficili perché se da una parte tra virgolette è facile attivare un processo tra virgolette dall'altra è molto difficile gestire l'implementazione questo è anche un po' il problema di moltissime start-up non solo di questi processi bello fare una start-up c'è adesso un entusiasmo pazzesco facciamo una start-up che in fondo deve fare un'impresa ma la mortalità delle start-up come sapete è altissima nel primo anno di vita poche sopravvivono una delle poche start-up che è riuscita veramente a fare una svolta nel suo fatturato è Sardex ma perché Sardex funziona ve l'ha spiegato sicuramente Marta Mainieri cioè si è inventata un meccanismo è anche un modello di business loro guadagnano dalla commissione che gli danno le aziende lì c'è un sistema di revenue e lì funziona quindi anche qua si entra in un campo vi dicevo però l'implementazione è una fase importante va gestita ed è una fase su cui si sta ricercando molto anzi tutte le ricerche europee sono su incubazione scalabilità e replicabilità dei modelli cioè l'Unione Europea è un pioniere si accorge tantissimo in anticipo di questi processi e le ricerche che fanno andare avanti tentano di prevenire i problemi però appunto non è che siano risposte come vi dicevo non è una scienza esatta solo provando capisci e basta queste sono un po' di cose poi i cittadini creativi diciamo hanno dato su un po' di cose sono stata molto contenta di andare qua alla scuola di cultura politica che mi hanno chiamato a fare un intervento alla scuola di cultura politica in Italia a Milano e lì mi sono confronta con un pubblico con un confronto molto politico molto interessante perché poi mi sono resa conto che questa attività era molto politica in un certo senso io ho concluso è molto lungo che è interessante perché è un sistema integrato di servizi tutti sul cibo tutti su Milano alcuni stanno andando avanti altri sono morti come sempre però ve lo racconto brevemente perché è un sistema di servizi collaborativi la piattaforma stessa è collaborativa è tutto un sistema di scatole cinesi diciamo è un progetto in questo caso che non ho portato avanti da sola mentre cittadini creativi un po' eroico per fortuna Nutrile Milano aveva un parterre di partecipanti Slow Food e Politecnico e l'Università di Scienze Gastronomiche era un progetto finanziato da Fondazione Caripo sta finendo adesso è durato 4 anni e si basa sul fatto che Milano ha quest'area a sud che è un parco agricolo che non è stato mai sfruttato che ultimamente faceva solo culture intensive cioè solo zucchine per la grande distribuzione mentre in realtà si diceva ma scusa l'Italia come dice Petrini i fondatori di Slow Food ha un collegamento storico tra la campagna e la città perché noi non riusciamo ad alimentare Milano nutrire Milano col suo parco agricolo e quindi il progetto di ricerca ambiva a creare dei progetti di servizi a filiera corta dalla campagna alla città convincendo gli agricoltori a fare l'orto ho capito che lavorare con gli agricoltori è una delle cose più difficili è molto difficile parlare con loro è molto difficile più che altro che facciano rete loro tra di loro rete che si aiutino che collaborino in maniera estensiva diciamo e qui l'idea appunto era creare una rete di servizi che vi dicevo vi faccio vedere alcune immagini del parco agricolo giusto per far entrare un po' nel contesto che è molto vasto e confina con la zona 4 il primo servizio che siamo riusciti ad attivare è il mercato della terra cioè riuscire a fare un mercato a chilometro zero vuol dire che è una banalità però farlo con i produttori del parco agricolo sud selezionarli andare convincerli che era una cosa interessante questo lavoro l'ha fatto Slow Food per fortuna c'è la selezione anche perché non abbiamo come potenze insomma agricole e di selezione di alimenti i mercati della terra esistono in altre parti del mondo a Milano non c'era l'abbiamo fatto in questo mercato succedevano però varie cose non era un mercato solo per la vendita e come esame noi siamo incominciati a pensare cosa accadeva in questo mercato poi vi faccio vedere alcune immagini di quando abbiamo incominciato a pensare gli scenari di quello che accadeva c'era anche un ristorante si poteva mangiare c'erano dei laboratori conviviali erano mercati che erano veramente luoghi d'incontro ma soprattutto noi designer cosa abbiamo deciso di fare? la bancarella della ricerca cioè ci sono tante bancarelle noi apriamo una bancarella un punto sul territorio uno spazio di coprogettazione dentro una bancarella del mercato e qui proponiamo quello che facevano i cittadini creativi proprio non arrivavano dalla bancarella con le persone che passavano cioè delle proposte di progetto di servizio a filiera corta da testare con i partecipanti al mercato con i passanti con i clienti posso dire ancora più difficile per certi versi perché dovevi acchiappare quello che era venuto a fare la spesa che magari in mediamente non gli fregava niente di discutere un servizio con te dall'altra però negli anni perché comunque adesso sono 4 anni che va avanti arrivavano e dicevano beh questo sabato cosa ci proponete anche la prima volta per fortuna era un sabato al mese poi è cominciato ad essere due sabati al mese cioè è migliorato però ogni volta preparare qualcosa stava diventando sempre più gravoso poi il progetto adesso sta concludendo il mercato continuerà a esserci ma la banca della ricerca ha esaurito il suo lavoro però vedete tutto quel lavoro di prototipazione di presentazione di progetti il supermercato collaborativo l'abbiamo presentato qua al mercato della terra un'idea di fare il supermercato collaborativo facevo anche dei test molto veloci cioè aiutaci a dire ma proprio come vi dicevo veramente marketing di strada non so come chiamarlo per certi versi però questa cosa di sapere cosa vogliono fare le persone organizzare degli eventi è importante perché i servizi li usano le persone come vi dicevo quindi tu devi assolutamente creare un contatto qua vedete un po' di foto quando vi dicevo che testavamo proprio i servizi ogni volta cioè poi ci siamo fatti aiutare anche dagli studenti a un certo punto è diventato molto più estensivo quindi era come se tutto il mercato diventasse un grande spazio di coprogettazione e quindi era molto interessante sempre tema alimentare servizi a filiera corta cosa possiamo fare però anche gli studenti a un certo punto cioè anzi facciamo una gara per vi riuscire a aiutare perché era divertente in un certo senso e qua vabbè avete visto accanto al mercato della terra abbiamo fatto una piattaforma digitale un sito dove sostanzialmente ti serve il prodotto principale di questo sito è una mappatura dei produttori locali delle fattorie che non c'era e già non è che abbiamo usato l'acqua calda però farla geolocalizzarla e dire cosa produce ciascuno non è stato facile dare informazioni sui prodotti e servizi sulle iniziative abbiamo usato anche come un po' finestra della sportella ricerca non è niente di che è questo qui www.butrinemilano.it e la cosa più importante è la mappatura il resto è un sito abbastanza semplice però anche cioè trovare i soldi per farla riuscire a a creare questo strumento è stato comunque difficile poi abbiamo fatto un altro servizio che si chiamava la cassetta del contadino che in parte è molto simile a tutti quei servizi di consegna di prodotti solo che qua l'idea era di fare non una consegna a domicilio che non è sostenibile perché porta a porta eccetera ma di coprodurre il servizio un po' con le persone cioè abbiamo individuato nel quartiere dei luoghi che potevano essere dei luoghi di consegna attivando portinerie bar macellerie cioè anche negozi che non erano in conflitto col avere una cassetta cioè semplicemente il cittadino passava al bar e ritirava la sua cassetta che aveva acquistato online era un luogo sempre aperto non doveva essere a casa ad aspettare la sua cassetta e via dicendo abbiamo creato una retta di punti di raccolta e questo è stato secondo me il punto più interessante in cui il servizio era un po' collaborativo veramente perché tu eri parte del processo di logistica e nell'attivare questa logistica avevi attivato i punti sul territorio non tutti lo volevano fare perché chiaramente è una rogna per un bar che tu c'hai lì la cassetta e la persona deve venire a prendersela fino a cioè se lo dimentica eccetera ci sono stati un sacco di problemi il macellaio era contento che diceva ma sì vengono a prendersela cassetta e mi hanno preso anche la carne ma loro non ci guadagniamo niente niente cioè convinciti che stai facendo una partnership difficilissimo cioè che potevi avere del valore da quello e qua abbiamo fatto proprio il prototipo della cassetta chiedendo cosa ci vorresti dentro quanti chili quanto sareste disposto a pagare abbiamo proprio chiesto tutto vabbè e quindi le persone venivano poi le abbiamo prototipate la prima volta era bruttissima ci siamo resi conto questi agricoltori neanche sapevano allestire la cassetta quindi quando arriva un designer la vede e dice no quindi anche un lavoro di questo cioè siamo andati noi ad aggregare poi abbiamo cercato insomma di fare la campagna di fare delle foto di capire insomma dove poteva andare forse negli uffici erano dei buoni punti di raccolta forse diciamo questo non è neanche il mio lavoro per certi versi dicevo a un certo punto però si è progettato ad un servizio ma a un certo punto stavo creando veramente una piattaforma di stakeholder di attori che erano interessati a partecipare abbiamo fatto tre test il terzo test è fallito e vi spiego perché cioè anche se il primo test cioè con numeri importanti e vi parlo di 200 persone cioè che acquistavano il sistema che funziona eccetera non abbiamo trovato l'eroe che voleva prendersi la cassetta del contadino nel senso doveva essere un servizio che a un certo punto scopigliava un agricoltore o un consorzio di agricoltori ti abbiamo fatto la piattaforma ti abbiamo fatto la rete ti abbiamo fatto tutto è pronto però era molto era vissuto come una cosa molto a lungo termine scusate devo bere sto parlando da tanto vi dicevo slow food non fa attività commerciale non è nel suo statuto un po' di tecnico ma anche meno e qua c'è mancato lo start-upper c'è mancato l'imprenditore sociale che voleva tenersi il servizio e in teoria il progetto doveva essere per gli agricoltori ma non è andato avanti per questo motivo nonostante ci fossero tutti i presupposti quindi quando vi dico c'è bisogno di gestire l'eredità è importante abbiamo attivato anche una filiera del pane questo è interessante non è proprio un design dei servizi però lo dico lo stesso perché hanno riattivato dei mulini che prima non erano utilizzati per macinare appunto il grano e hanno riattivato una filiera questo è stato proprio un progetto di slow food è stato interessante e poi abbiamo portato avanti il progetto di supermercato collaborativo che abbiamo chiamato la super coop con l'idea di creare uno spazio e l'abbiamo proprio studiato abbiamo trovato anche uno spazio che non era in zona 4 era a nord di Milano dove fare il supermercato collaborativo che vi dicevo prima cioè avevamo creato una rete di produttori avevamo trovato uno spazio per certi versi ci mancavano i soldi per partire sostanzialmente non siamo partiti ma questa discussione continua a esserci io confido che prima o poi partirà avevamo fatto anche i conti per partire ci servivano 100 membri che pagavano 100 euro l'abbonamento iniziale cioè la membership come vi spiegavo prima tu paghi una membership una volta e ti serve quella massa critica per partire abbiamo studiato i turni come poteva avvenire veramente in Italia perché non dimentichiamoci che la reattualizzazione prendono un servizio da un contesto di metterlo in un altro non è che lo prendi paropare e lo metti cioè in Inghilterra funziona così in Inghilterra funziona in un'altra maniera in Italia bisognava un po' fare la via italiana al supermercato collaborativo poi se non fate delle cose tipo a Modena c'è un supermercato in cui disoccupati se non sbaglio se svolgono una parte del lavoro delle consegne fanno la spesa in cambio hanno la spesa in cambio però quello è un sistema volontaristico appunto che va benissimo è un sistema per aumentare insomma per aiutare le persone in difficoltà invece come vi ho spiegato il supermercato collaborativo ci andava a chiunque a New York e io non sono riuscita a iscrivermi perché c'era troppa gente quindi è interessante la rete di distribuzione locale che ne avevamo parlato anche per cittadini creativi era l'idea di usare un po' i percorsi dipendolari un po' come aveva fatto di HL per portare i prodotti del parco agricolo sud a Milano è stato un po' difficile da lì è venuta l'idea di fare scusate queste slide sono in inglese perché gli studenti erano internazionali dei mercati nei cortili dei condomini dei micromercati era super interessante l'idea ci siamo scontrate con una legislazione sullo spazio semipubblico molto complessa perché il cortile non è uno spazio pubblico è uno spazio semiprivato ci vuole la riunione di condominio però nonostante questo cioè il progetto è stato studiato fino in fondo col kit proprio per aprire un mercato nel proprio condominio è interessante tu chiami un tot di produttori lo attivi quando vuoi alcuni avevano pensato ai mercati di notte a fare quasi l'evento cioè poi l'imprenditorialità è diventata veramente forte altri avevano pensato a usare anche i mezzi pubblici per trasportare i prodotti però lì avevano disegnato a questi studenti proprio un trolley per portare le verdure cioè in realtà adesso mi stanno sembrando delle cose un po' folli poi scopri come vi ho detto che DHL l'ha fatto in Germania e quindi dici beh si parte così e poi si migliora si ingegnerizza ci siamo pensati un po' di progetti anche di turismo di prossimità chiaramente perché il parco agricolo studio è un posto bellissimo e nessuno ci andava c'è la gita fuori porta dovevi andare per forza in Liguria dovevi andare in Val d'Aosta eccetera eccetera e quindi abbiamo portato un po' di idee fare una specie di bike sharing di campagna di diventare anche contadino per un giorno non mi ricordo neanche erano proprio degli eventi un po' come Piano City non è nato tanto però alla fine è nato questo la Via Lattea che è sostanzialmente un percorso che fa vedere tutti i produttori di latte nel parco agricolo sud beh il parco agricolo era patron comunque del progetto Nutrire Milano andavi in bicicletta ti spiegava tutti i percorsi da fare un po' in treno un po' in bici ogni allevatore era stato formato sul fatto che poi sarebbe arrivato il tour da lui comunque anche qua in Puglia mi sembra che ci siano tante iniziative di turismo a chilometro zero di coinvolgimento delle risorse locali un po' anche i cittadini i ciceroni di zona 4 il progetto che avevo fatto vedere i cittadini creativi era nato così lì è stato difficile continuare perché bisognava sviluppare anche una app e non avevamo lo sviluppatore di una app però l'idea era che in zona 4 c'erano delle cose che nessuno sapeva tipo degli anziani ci hanno detto ma lo sai che la zona 4 è la zona con gli alberi più antichi di Milano e lui aveva proposto il tour degli alberi e diceva in questo parco ci sono i cedri del Libano che non esistono in nessun'altra parte d'Italia qui c'è l'albero più vecchio cioè aveva fatto segnato il tour degli alberi bellissimo un altro aveva fatto il tour degli edifici abbandonati che tu dirai però per i milanesi stessi non è che per forza deve essere un turismo internazionale ecco quindi era molto interessante lì il problema era stato e ve lo dico chiaramente che chi conosce un luogo non è per forza un bravo storyteller cioè non è per forza un bravo raccontatore cioè un cittadino che l'anziano che ci aveva segnalato il tour degli alberi io non me li immaginavo tanto che si prendeva questo gruppo di persone che avevano prenotato il tour e gli faceva fare il tour degli alberi e da lì ci siamo detti ma facciamo una partnership con una scuola teatrale e chi vuole diventare guida deve fare il corso di storytelling a teatro e questo forse ci aiuta questo poi l'ho provato molto anche a New York ve lo racconto perché il turismo a chilometro zero è sempre abbastanza interessante c'era questo quartiere a New York a Manhattan il Lower East Side e c'era un gruppo di cittadini che ti faceva fare il tour costava 15 dollari e io pago per andare a fare il tour del Lower East Side storico era il tour storico che ti raccontava come era nata New York la stratificazione irlandese ebrea italiana eccetera eccetera il Lower East Side c'è anche Little Italy è tutta una parte molto multietnica è stato bellissimo eravamo in 20 io l'ho comprato il tour tu pensa questo qua si è pigliato 15 dollari da 20 persone c'è un piccolo modello di business da questo è arrivato con i libri con le foto vecchie cioè era nel posto nel palazzo ci metteva la foto vecchia com'era com'è cioè era veramente un entertainer lui era un attore quasi era stato bellissimo poi scopro vado nel sito se ci volete andare Lower East Side History Project c'erano altri tour c'era il tour del punk vabbè parliamo di New York sicuramente un'attrattiva forte dove ti mostrava tutti i luoghi dove erano nate le storiche punk band di New York il tour della mafia fantastico non è molto bello però si chiamava Gangster Tour se non sbaglio Sparatoria eh? no più che altro ti diceva guarda questa era l'area dove c'era questo gruppo di gangster sapete tutti i gangster movie di New York hanno appeal però chi raccontava era veramente bravo aveva creato poi aveva creato partnership locali ci ha portato a mangiare i ravioli al ristorante cinesi di Chinatown che costavano mi ricordo ancora un raviolo un dollaro era stato comunque c'è tutto un pacchetto però molto vero molto autentico poi magari nel tempo diventa un po' artificioso non lo so però non è il tour di MSC Crociere per intenderci è il tour che io insomma raccompagnata da questo triste quando l'ho vista aveva un tatuaggio da qui a qui una cicatrice era un personaggio abbastanza dubbio e poi ti faceva il tour della Lower East Side criminale ci stava anche e quindi questo è stato molto interessante a proposito appunto sempre di turismo a chilometro zero che ci sono varie maniere e secondo me ogni territorio c'è una storia da raccontare e se tu la racconti trovando la chiave di volta giusta forse riesci e beh qua abbiamo un po' provato a fare un po' di tour per la Via Latte è stato molto più semplice non ha niente a che vedere con Lower East Side però quando invece sono nati appunto i ciceroni di zona 4 l'idea era un po' questo il tour degli edifici abbandonati ed è stato addirittura prima di andare a New York il tour delle stelle che a Milano non si vedono molto bene questa aveva pensato di fare il tour notturno per far vedere le stelle dai tetti di zona 4 e ho detto vabbè questo è un po' pesante non so se riusciamo neanche ad ottenere il permesso da tutti i condomini per salire però erano cioè questi delle erano avuti cittadini ed erano molto belle cioè alcune erano veramente interessanti c'era un ragazzo che aveva proposto il tour delle insegne grafiche delle insegne dei negozi perché c'erano delle insegne insomma alcune che erano rispettate degli anni 80 altre brutte dicevano ti faccio vedere anche quelle kitsch ti faccio vedere anche queste poi chi sarebbe iscritto secondo me erano soltanto i 4 nerd grafici che volevano andare a fare il tour poi devi anche pensare chi è il tuo utente questo ve lo dico sempre però allora il lower side usava un sito web tu ti iscrivevi pagavi andavi oppure telefono telefonavi e io ho fatto così ho pagato anche in contanti sistema di fatturazione oscuro però negli Stati Uniti più semplice in qualche maniera poi ce ne sono altre c'è l'Aica Local Guide che è europeo che ti mette in contatto con un turista con un cittadino da qualsiasi città europea e li paghi con un sistema visa mi hanno fatto una start-up cagliaritana che si chiama Guide Me Right se non sbaglio che è la versione italiana di questo magari cercatela vediamo come stanno andando perché anche lì c'è bisogno di contatto con le comunità locali chi è che ti porta a fare il giro cosa ti fa vedere? like a Local Guide dicevo anche lì secondo me poi sempre dubbia un po' la qualità delle cose che ti vengono proposte va sempre verificata l'idea di certificare la guida interessante attraverso un corso di storytelling attraverso un previo accordo dei contenuti e via dicendo beh Nutrimiano ve l'ho contato abbastanza in fretta come avete visto è una piattaforma di servizi che usa le stesse risorse cioè le risorse sono i produttori del palco agricolo sud cercando di unificare un sistema di logistica qua è proprio meta design dei servizi cioè cerca di integrare le stesse risorse le stesse competenze in un'unica piattaforma per dare servizi diversi però e questo si chiama economia di scopo in economia invece che economia di scala cioè tu aggreghi attorno all'unico scopo che poi però le risorse le puoi spalmare su differenti attività e questa è la cosa interessante come l'idea di uno spazio multifunzione io uso uno spazio che in realtà faccio ad esempio la cascina cucagna gli assegno varie cose ottimizzarle con le risorse e utilizzarle insieme alle competenze non è facile va bene sono le 12.23 io non so se fare già la pausa perché se no entro in un altro progetto e secondo me siamo un po' stanchi guardo anche un po' l'uditorio non so stoppiamo perché poi ci attende un pomeriggio pesante e secondo me abbiamo aggiunto il risultato della mattina va bene grazie grazie Grazie.